Tempo di cambiare, episodio 8 Ehi ciao, sono Italo Cillo e questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it è l'indirizzo a cui trovi tutti gli episodi archiviati, passati, presenti e futuri Per iniziare ciao, benvenuto e soprattutto per iniziare un grande pensiero un grande abbraccio, tante benedizioni a tutte le persone che hanno subito danni a quelli che hanno perso la vita, a quelli che hanno subito danni durante il terremoto di questa settimana in Emilia e questo lo esprimo non soltanto a nome mio ma di tutta la comunità degli ascoltatori di Tempo di Cambiare A questo proposito voglio leggere una testimonianza, la testimonianza di Francesca, uno dei nostri ascoltatori Francesca ci scrive Ciao Italo, sono una silenziosa ma assidua frequentatrice di questo podcast e di tutte le cose che fai Voglio ringraziarti per tutto il valore e l'amore che ci stai trasmettendo Ti stimo tantissimo, dopo averti conosciuto in settembre a Scapezzano ti stimo e ti seguo ancora di più Non scrivo mai né qui né sugli altri forum in generale ma oggi non so se per lo spavento o per tutti i pensieri e le riflessioni che mi passano per la testa in questi momenti mi sono decisa a scrivere Lo spavento è che vivo a circa 15 km da Sant'Agostino, in piena zona terremoto Molta, molta, molta paura Io, a parte la paura e la tensione costante, sto bene ma qui vicinissimo, anche solo a 5 km da qui, per tantissime persone, come sappiamo tutti, non è così È incredibile come tutto possa cambiare in un attimo Lo sapevo anche prima, certo ma oltre alla terra sotto i piedi, anche pensieri, emozioni e riflessioni hanno ricevuto una bella scossa È un attimo È incredibile vedere come in un attimo cambiano i rapporti con i vicini le altre persone nel mio paese Dove era prima tutto questo affetto, tutta questa avvicinanza? Io amo la gente, ma non mi ero mai accorta così bene di quante belle persone ci sono qui Tutto attorno E mi è sembrato che ce ne stavamo tutti rendendo conto Gli occhi delle persone sono diversi Le emozioni si toccano La bontà e la generosità sono ovunque O sono solo io che ora mi sento così e vedo così? No, mi sembra di no Tutti lo sentiamo Mi sento così stupida ora ad accorgermi di queste cose che dovrebbero essere così ovvie, così normali Certo, le sapevo, ma non così Una bella sveglia, una bella botta di consapevolezza, una visione diversa Se dovessi intitolare questo commento lo chiamerei Il vero motivo e il vero scopo delle scosse Italo, mi piacerebbe che tutta questa gente attorno qui a me avesse ascoltato questi sette episodi Se sette episodi e ti conoscesse, scusami sicuramente sono un po' sottosopra Ma mi sa che non sarebbe proprio uguale per me se non li avessi ascoltati Quindi per favore, continua Grazie Italo, grazie a tutti i partecipanti per i vostri commenti e bellissimi video che avete linkato Un affettuoso saluto e scusate questo spaventato sfogo Francesca, tantissime grazie a te per questa tua testimonianza Mi piace molto la lezione che hai deciso di ricavare Perché a volte le lezioni che ricaviamo dalle avvenimenti piacevoli e spiacevoli della nostra vita Sono le decisioni che sono le conclusioni che noi decidiamo di trarre E la conclusione che tu hai deciso di trarre è che il motivo e lo scopo di queste scosse Dobbiamo far sì che sia la riscoperta della nostra umanità Bene, questo podcast è dedicato anche a riscoprire la nostra umanità E speriamo di riuscire a riscoprire la nostra umanità senza che ci sia bisogno di altre scosse Senza che ci sia bisogno di altre tragedie Perché se non ci riusciamo ci saranno bisogno di altre tragedie Ci sarà bisogno di altre scosse in senso reale, in senso metaforico Per risvegliarsi, risvegliarci E quegli amici e ascoltatori che stanno seguendo questo podcast fin dall'inizio Hanno capito benissimo a cosa mi sto riferendo E come questo sia intimamente collegato agli argomenti principali di cui ci occupiamo in questo podcast Un altro pensiero in apertura, questo purtroppo è più misto a rabbia È rivolto a questi fatti orribili della scuola di Brindisi Anche qui preghiamo per la vittima e per tutte le altre vittime, le persone coinvolte Mentre registro questo episodio, lo scenario è totalmente confuso Quindi è presto per fare qualsiasi affermazione, per lanciare qualsiasi sentenza Quello che sembra sconfessare qualsiasi ipotesi di indagine È il fatto che l'ordigno è stato fatto da un totale incompetente Che non capisce niente di esplosivi L'ordigno era totalmente difettato e incapace di fare il suo mestiere Quindi questo sembrerebbe scartare le ipotesi principali Che sono le più brutte, che sono quelli che tutti abbiamo fatto fin dall'inizio A parte questo, ripeto, mentre registro non so ancora niente, non si sa ancora niente Ma comunque sia, mai come adesso, mai come in questo momento È importante tenere alta l'attenzione La nostra attenzione a una delle cose più preziose che abbiamo Che è la nostra capacità di capire e la nostra capacità di agire dopo aver capito E anche è importante, mai come adesso, capire che ci stiamo a fare noi qui E anzi colgo al volo l'occasione per ribadire a me, a te, a tutti noi Cosa ci stiamo noi a fare qui e qual è lo scopo di questo podcast E voglio anche rispondere a una domanda ricorrente A una domanda ricorrente per l'ultima volta in realtà Perché vorrei veramente chiarire questa questione di qual è l'oggetto E qual è lo scopo di questo podcast E lo faccio con... rispondendo alla domanda di uno dei nostri ascoltatori Che si firma a Sektor, no? Perché sia lui che voglio prendere di mira Anzi la sua lettera è tutto sommato garbata Sektor scrive Grazie Italo per il tuo contributo, speriamo fattivo, alla ricerca della verità di ognuno di noi Ma così, a impressione, mi sembra che anche tu cominci a essere a corto di argomenti, o no? Sei partito con i tuoi podcast il 3 di aprile Annunciando l'imminente arresto di 10.000 cabalisti Consigliandoci di prepararci logisticamente e psicologicamente all'evento, eccetera, eccetera Se non erro, oggi è passato un mese e mezzo, 45 giorni, e non si è visto ancora nulla Non parli più di Drake, Fulford, Wilcock, nuovo sistema finanziario, scie chimiche, cabala Ma solo di, assolutamente condivisibili per carità, principi, profezie, eccetera, eccetera, eccetera Andiamo sul pratico Non è che aveva ragione Neo-Vitruvian e la storia degli arresti di massa American Kabuki, eccetera, eccetera È tutta una bufala? Con simpatia? Sektor Bene, colgo la buona educazione e il tatto nel tuo porre questa domanda E percepisco che questa tua domanda è sincera Però, Sektor, sii consapevole anche dei giudizi che lanci Quello che per te significa affermare che sarei, secondo te, a corto di argomenti Magari per la maggioranza degli ascoltatori significa l'opposto O per la maggioranza degli ascoltatori di questo podcast si tratta invece di questioni ancora più importanti Tre volte più importanti, cinque volte più importanti e interessanti rispetto agli arresti di massa Io ti invito ad ascoltare con maggiore attenzione Se sei interessato, come mi sembra di capire che tu sei interessato a continuare ad ascoltare questo podcast Di farlo con attenzione, perché, e lo dicevo poco fa L'attenzione è una delle risorse più preziose che abbiamo oggi Se magari ti distrai mentre ascolti, se magari navighi su altri siti Questo lo ripeto sempre fra parentesi, non mi stancherò mai di farlo Se ascoltando questo podcast navighi su altri siti, aggiorni il tuo stato su Facebook O chatti con amici o rispondi alle mail Sarai distratto, sarai disattento E non trarrai il massimo valore di questo, di quello che potresti trarre da questo podcast E quindi non vorrei che ti fosse sfuggito che l'oggetto principale di questo podcast Non sono gli arresti di massa E non sono Drake, Fulford e Wilcock E quindi colgo l'occasione per dire non a te, ma a tutti Con un tu generico Se pensi che l'oggetto di questo podcast sia scoprire Se gli arresti di massa alla fine erano veri o erano una bufala Per favore non ascoltare più questo podcast Te lo chiedo proprio con il cuore in mano Perché evidentemente non lo so Non è fatto per te o stai ascoltando la trasmissione sbagliata Questo non significa Naturalmente io continuerò a dare aggiornamenti e i miei commenti Le mie riflessioni personali e le riflessioni del mio pubblico Su tutte le novità importanti che ci dovessero essere in questa direzione Se ce ne sono, potrebbero anche non esserci O potrebbe esserci novità molto diverse e molto più importanti anche di queste Sicuramente non sento come mio dovere primario o compito Nel senso che non me lo sono scelto Quello di aggiornare i miei ascoltatori su gli ultimi capricci di Fulford Drake o di Wilco Che fra l'altro ho già espresso a chiare lettere nell'episodio 3 Perché se l'è saltato Le mie riserve nei confronti di tutti e tre questi personaggi Come tutti e tre devono ancora dimostrare Ai miei occhi devono ancora dimostrare La loro fondatezza e il loro valore Anzi se volessi proprio mettere il dito della piaga Voglio tornare in particolare a ricordare A parlarvi di Ben Fulford Perché quando l'ho presentato per la prima volta E non vorrei che ci si dimentichi delle mie parole Ho già detto che Ben Fulford a mio giudizio soggettivo Che naturalmente mi posso anche sbagliare È un matto scatenato Ho seguito il suo sito ad abbonamento mensile Alcuni anni fa, 4-5 anni fa Per diversi mesi e ho raggiunto la conclusione incontrovertibile Che è matto E vedendo i suoi ultimi video che ha fatto Fulford Pochi giorni fa, quest'ultima settimana In cui intervista un presunto capo illuminato degli illuminati russi Ovviamente mi conferma che il personaggio è completamente matto L'ho presentato in questo podcast Riascoltati le registrazioni Dicendo che Fulford ha detto in passato O gli hanno fatto dire cose che nessuno sapeva Non erano di dominio pubblico Non si leggono sui giornali Non si sentono le televisioni Che si sono poi dimostrate vere Come tutta la faccenda dei fondi globali di oro Depositati presso la Bank for International Settlement Eccetera 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 Che io sappia è la prima persona che ha divulgato questo Quindi è diciamo è una persona di cui mi sono occupato Tanto perché ha detto delle cose Non perché sia una persona che stimo Non perché sia una persona in cui credo Personalmente confermo la mia opinione di Fulford Però soprattutto ecco adesso senza scendere in dettagli Tornerò a occuparmi di questi aggiornamenti Quando ci saranno Se non l'ho fatto fino ad ora Se non l'ho fatto agli ultimi due episodi Vuol dire che non ce ne sono stati Drake è lì ancora fermo legato al palo Nulla si è mosso L'ultima volta ha detto che Gli avevano promesso che sarebbe intervenuti Gli alti gradi del Pentagono Ma ancora non stanno facendo nulla Quindi a questo punto io sono Anch'io sono fermo al palo E non mi interesso di questo argomento Se non mi dimostra che le sue affermazioni sono vere E soprattutto se non consegue qualcosa Delle sue affermazioni Quindi questo per chi mi chiede aggiornamenti su questo Se ci sono te li darò Fra l'altro all'epoca ero solo a occuparmi di queste cose Adesso ci sono cento altri blog che se ne occupano Quindi potrei anche decidere di non occuparmene Se c'è la nuova uscita di Wilcock O Fulford O Drake e così via Ripeto Non lo sento come mio dovere o compito principale Perché non me lo sono scelto Il focus di questo podcast Che mi sono scelto È un altro Infatti questo podcast si chiama Tempo di cambiare Riguarda il pensare con la propria testa Riguarda il capire Quello che sta succedendo E perché sta accadendo E nel far questo iniziamo dalle cose che sono sotto i nostri occhi Iniziamo dalle cose che sono sotto gli occhi di tutti Però poi procediamo con un approccio multidisciplinare I miei ascoltatori seguono e apprezzano questo podcast Perché non mi occupo di una cosa Non mi occupo di finanze, di economia, di politica, di attualità, di cronaca Di spiritualità, di religione e così via Ma cerco di mettere tutti questi pezzi insieme Per costruire un mosaico Che senza questi pezzi tutti insieme È molto difficile da ricostruire E questo è il motivo per cui mi apprezzo ai miei ascoltatori Credo O almeno E questa è la direzione in cui io sto facendo del mio meglio Quindi cerchiamo di essere multidisciplinari Guardare in tante direzioni contemporaneamente Come mi sembra Forse pochi stiano facendo Ed è questo il motivo che mi Mi spinge E mi spinge a restare in questo campo E a continuare questo lavoro E nel far questo iniziamo non dai massimi sistemi Non iniziamo dalle filosofie astratte Iniziamo guardandoci Guardando Guardando quello che c'è sotto gli occhi di tutti Non a caso nel primo episodio dico Alza gli occhi al cielo Vedi quelle scie chimiche Che significano? Vogliamo capirlo di te cosa significano? Oppure guarda giù Guarda in basso Anzi fai una cosa Mettite le mani in tasca E conta i soldi che tieni in tasca Perché stiamo diventando sempre più poveri? Io Tu In quanto individui In quanto società Perché stiamo diventando sempre più poveri? È casuale? C'è una crisi? Ma la crisi è casuale La cosa dipende Perché l'Italia ha ceduto Ogni sovranità nazionale A un gruppo di potere Privato Europeo Non eletto Governato da persone Nominate da altri E io e te Non abbiamo votato per questo Non abbiamo scelto in favore di questo Perché l'Italia in questo momento È governata da un uomo Senza compassione Senza legittimazione popolare Gli hanno tirato le cose Le cose appresso E l'hanno contestato perfino Quando è andato a visitare le vittime del terremoto Senza legittimazione popolare Messo lì da qualcun altro Per tassare cittadini E spedire il ricavato Direttamente nelle tasche Dei banchieri privati Perché sta accadendo tutto questo Se tu non ti rendi conto di quello che sta accadendo Tu sei complice Se tu non ti rendi conto di quello che sta accadendo Non hai neanche le qualifiche minime per lamentarti Perché questa bancarotta pianificata Perché questo è È una bancarotta pianificata dell'Italia Pianificata a tavolino E non solo dell'Italia Questa è l'operazione in larga scala In più larga scala Dai primissimi anni 30 A oggi di bancarotta Pianificata di tutte le economie del pianeta Questa bancarotta La stanno facendo col tuo consenso E allora il tema di questo episodio è proprio questo È il nostro consenso Ed è se e come possiamo ritirare il nostro consenso Perché se prima non capiamo Cosa sta accadendo col nostro consenso E che ruolo gioca il nostro consenso Proprio in questo preciso momento Allora non abbiamo neanche armi per agire Cioè non possiamo capire come fare A ritirare il nostro consenso E a cambiare lo stato di cose presenti Attenzione, ho parlato di economia Ho parlato di mettere le mani in tasca E di contare i soldi che hai Però ripeto, attenzione Se le cose vanno bene per te adesso Economicamente parlando Io ti dico congratulazioni Tu sei una persona fortunata Però non hai più il diritto di pensare Chi se ne frega E io personalmente potrei pensare Che se ne frega In un momento come questo In cui le mie attività Personalmente, mie del mio team Vanno economicamente a gonfie vele Sono finiti i primi 5 mesi del 2012 Ho già superato il fatturato Dei primi 5 mesi del 2011 Se proprio lo vuoi sapere Non sono qui perché ho dei problemi Che voglio condividere con te Io sono qui perché nessuno Può più stare zitto oggi E nessuno può più pensare Chi se ne frega O potrei pensare Chi se ne frega Tanto ho la mia adorata pratica Di meditazione La meditazione serve per migliorare Noi stessi e aiutare gli altri Non serve per rifugiarci In un paradiso dorato Come molti probabilmente pensano Il proprietario di Luxottica 65.000 dipendenti L'hanno intervistato Gli hanno detto Che ne pensa lì dell'articolo 18 Lui ha risposto a me Dell'articolo 18 Non mi fa un baffo Perché non intendo licenziare Nessuno di questi 65.000 dipendenti Perché l'azienda va bene Lui potrebbe pensare Chi se ne frega Però sta denunciando tutto Il sistema bancario Criminale e corrotto Anche se non sta toccando Lui personalmente Perché sta distruggendo Il tessuto di questa società Non solo la nostra Tutte le società Nessuno oggi ha più il diritto Di pensare Chi se ne frega Sarebbe come dire Tanto il mostro Divora prima tutti gli altri E alla fine poi Prima che arriva a me Saranno tutti morti Bel ragionamento Tanto poi sempre comunque Arriva a te Guarda Si dice una frase molto saggia Perché trionfi il male È sufficiente una sola cosa Che le persone per bene Non facciano nulla Ma fammelo ripetere Perché trionfi il male È sufficiente una sola cosa Cioè Che le persone per bene Non facciano nulla Ora questa questione Del consenso Perché la sottolineo E dico che è così importante Anzi così essenziale Anzitutto perché Se non capissimo il ruolo Che gioca in tutta la situazione presente Il nostro consenso Ci è molto più difficile Cambiare la situazione presente Numero uno Numero due Perché è importante capire Che l'elite mondiale Che ci governa Sa benissimo Che il consenso E non solo è importante È indispensabile È di importanza vitale Per continuare il loro sistema Perché è così indispensabile Per loro Il nostro consenso Perché loro Sanno benissimo Che l'intero universo È regolato Dalla legge Del libero arbitrio È una legge Più grande di loro È una legge Più grande di tutte le leggi Che gli esseri umani Possono fare L'universo In qualche modo Reagisce in favore Del libero arbitrio Degli individui Anche se ci sentiamo Vittime delle circostanze Qualsiasi cosa Perpetrata In tuo danno In un certa misura Ha bisogno Del tuo consenso Tu marito ti picchia Scusa l'esempio Volgarissimo È indispensabile Che tu rimanga All'interno Di quel contratto È indispensabile Che tu rimanga Sotto quel tetto domestico Affinché lui Possa continuare A picchiarti Supponiamo che la banca Ti fa fallire Ti vuole togliere la casa Ok Va bene Sei tu ad aver firmato Quel contratto Originariamente Tu l'hai firmato E le clausole Erano quelle Ed erano chiare Poi ti chiamano In tribunale Per la causa Sei tu a presentarti In tribunale Ancora una volta E a sottomerterti A quella giurisdizione E riconoscerla Ti chiedo Di pagare tasse Imposte Dirette Indirette Per un totale Il 70% In Italia Tale per cui Nessuna azienda Al mondo Potrebbe mai sopravvivere Sei tu A rinnovare Ogni giorno Il contratto Che hai Con questo sistema E quello che intendo dire Lo vedremo adesso insieme Molto molto presto Questa legge Che è chiamato Da il consenso O la legge Del libero arbitrio È talmente universale Che penso un po' Perfino nella Bibbia Il Dio Il Dio Yahweh Il Dio della Bibbia Non può obbligare Mosè A seguirlo Non può obbligare Mosè Il suo popolo A seguirlo Semplicemente Non può Eppure è Dio Anche se puoi Mauro Biglino Per piacere Vai a guardarti Il video Di Mauro Biglino Su Youtube Mauro Biglino Sono imperdibili Questa persona Ha tradotto Direttamente dall'ebraico Quello che dice Veramente la Bibbia C'è tantissimo Da imparare Fra l'altro L'ha tradotto Lui e anche altre persone L'hanno sottoposto Le sue tradizioni Traduzioni Agli anziani Delle varie comunità Ebraiche italiane L'hanno verificato La correttezza Della sua traduzione Per filo E per segno È inoppugnabile Secondo la Bibbia Non secondo Biglino Secondo la Bibbia Yahweh Non è Dio Questa parola Dio non viene mai usata A proposito di Yahweh Dio al singolare È Un alto E potente Elohim È uno Degli Elohim Che sembrerebbe Una stirpe Discendente Dall'altro pianeta O qualcosa del genere Come di questi Elohim Ce n'erano tantissimi Ovunque Sparpagliati Sul pianeta Terra In accampamenti Questo dice la Bibbia Vai a leggere la Bibbia Ancora adesso Lo dici così Anche se non è quella Di Biglino Vedrai che ti parla Di questo Fra l'altro Della stessa cosa Parlano tutte le scritture Dei Sumeri Che sono A monte Rispetto alla Bibbia Ed a cui la Bibbia È derivata Ora Questo Dio Non chiamiamolo Dio Perché forse Non è neanche appropriato Questo Yahweh Della Bibbia Anche se era armato Di un'arma potentissima Che dalla descrizione Biblica Era un'arma al plasma Capace di incenerire Qualunque cosa toccasse E lui stesso Non era capace Di controllare Il potere di quest'arma La famosa Arca dell'Alleanza Leggi la Bibbia Tutto scritto lì Anche se era armato Di questa potente Arma distruttiva Non poteva Obbligare Mosè a seguirlo Per lui Fu indispensabile Stipulare un'alleanza Guarda che non sto divagando E questo è molto importante I fili dell'attualità Di cui sto per parlare Fu obbligato A stipulare Un'alleanza Con il popolo ebraico In base al quale C'erano tanti Clausole da rispettare Fra cui Che il popolo ebraico Doveva uccidere E sacrificare A Yahweh Il primo genito Di ogni coppia Eccetera 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 Vallo a leggere Tutto scritto nella Bibbia Quando poi Decisero Liberamente Di seguire Yahweh E Yahweh Li condusse All'ingresso Della terra promessa Loro si riunirono In assemblea E dissero Che facciamo Continuiamo a seguirlo O no Anzi dissero Continuiamo a seguirlo Oppure ce l'andiamo Con i vecchi Elohim Che seguivamo prima Prima di conoscere Yahweh Oppure Oppure Ancora una terza possibilità Seguiamo Gli Elohim Che comandano qui In questa nuova terra In cui siamo arrivati E' tutto scritto Nella Bibbia Così Liberamente Ancora una volta Decidono di seguirlo Decidono di rinnovare L'alleanza con Yahweh E Yahweh scatena La carneficina Perché con questa arma E con i suoi seguaci Distrugge tutte le città Che incontro nel suo cammino Inclusi uomini Donne Vecchi E bambini E' scritto sulla Bibbia Ora Tutto questo per dire cosa Il comando Esige Il consenso Il comando Ha sempre Assoluto bisogno Del consenso Per durare Altrimenti Non potrebbe durare E i potenti Questo lo sanno Ora Ci sono delle eccezioni A questa legge La legge del consenso Sicuramente sì Come tutte le regole Esistono tantissime eccezioni Anzi La storia E' piena di eccezioni E queste eccezioni Sono proprio le pagine Della storia Più piena di disonore E' lì dove il genere umano Ha disonorato se stesso Perché? Perché ha disonorato La legge del consenso E la legge del libero arbitrio E quindi Che ne so La riduzione in schiavitù Degli africani In secoli anche abbastanza recenti E' un esempio In anni recentissimi Qui in Italia Senza andare troppo lontano La strategia Della tensione La strage di Piazza Fontana E' un esempio Di calpestare La legge universale Del consenso E del libero arbitrio Perché le persone In Piazza Fontana Non erano state informate E chi ha commesso Questo delitto Che ancora oggi Non si sa chi è stato E molti di noi Non hanno guardato il film Uscito da poco Chi ha commesso Questo delitto E' dannato Chi ha ordinato Questo delitto E' dannato Intendo dire Per sempre Davanti alla propria coscienza Per sempre Davanti al proprio Dio Se ha un Dio E anche se non crede in Dio Perché questo significa Agire fuori dall'onore Agire fuori dalla legge Del libero arbitrio E questo è l'atto più Autodistruttivo Che si possa immaginare Equivale a un suicidio spirituale Quando questo accade Il protagonista E' totalmente disonorato E' importante capire Questo concetto Perfino nella criminalità Organizzata Esiste l'onore Esistono le regole Questo non vuol dire Che a volte Non vengono violate Come tutte le regole Ma esistono regole E sono ferree Esiste l'onore E viene tenuto In alta considerazione Perfino nelle sette sataniche Esiste l'onore Esistono le precise regole del gioco Visto che sei su YouTube Guardati i video Di Paolo Franceschetti E tutti gli studi Che ha fatto Sulle regole d'onore Delle sette sataniche Che anche quelle Non sono scollegate A tutto il resto Ma sono anche quelle Collegate in qualche modo A ciò di cui stiamo parlando C'è un onore E ci sono delle regole Perfino il satanista Che deve compiere Un sacrificio umano La cosa più orribile Che io e te possiamo pensare E' obbligato A scegliere la vittima Che è la prima Ad andare verso di lui E' obbligato A scegliere la vittima Che si sente Inspiegabilmente Attratta Dal suo carnefice L'esercito Che invade Un'azione straniera Uno degli atti più orribili Che assistiamo oggi Storia recente Gli Stati Uniti d'America Che invadono l'Afghanistan L'esercito Che invade Un'azione straniera E' obbligato A fare un avvertimento Allo Stato Che sta per invadere Con tutte le sue richieste Il governo del paese Invaso Che sta per essere invaso Ha il libro arbitro Di rispondere Sì o no Questo ovviamente E' disgustoso E crudele E' la legge del più forte Però c'è stato Un preavviso E quindi l'onore E' stato mantenuto Poi dalle decisioni Del presidente Del paese invaso Descenderanno le sorti Della popolazione civile Che a sua volta Si è tenuta Quel governo Come rappresentante E ne è in un certo senso Responsabile Ci sono tanti livelli Di consenso Comunque Se pensi che sto divagando Ti sbagli Perché sto arrivando A quello che è veramente Il punto cruciale Di quello che succede oggi In questo momento Sotto il nostro naso Comprendere L'universalità Della legge del consenso Della legge del libero arbitrio E' la base di quello Che sto per dire E ti dimostrerò Che l'elite criminale Che governa il mondo Sta seguendo questa legge Fin dall'inizio E in ogni momento Perché non può Non seguirla Pena Il completo disonore Pena il completo disonore Davanti alle loro stesse leggi Davanti al loro stesso Dio Davanti al loro stesso Satana Comunque lo vuoi chiamare Se non conoscessero Questa legge universale E se non la seguissero Scrupolosamente Il loro potere Non sarebbe durato Tanto fino ad oggi Perché Disonorare La legge del libero arbitrio Equivale all'autodistruzione Equivale al suicidio L'universo sarà pure neutrale Ma l'universo Regisce sempre In favore del libero arbitrio E' una legge Che nessuno può disfare Ecco perché Yahweh Era obbligato a chiedere il consenso E faceva alleanze Ecco perché i governanti Oggi ci fanno votare Non possono Non farci votare Perfino durante l'epoca di Stalin C'erano le votazioni Ora Poiché hanno assoluto bisogno Del nostro consenso Come si fa Ad aggirare questa legge Da parte loro Che la vogliono aggirare A preservare il sistema E a preservarlo A mantenerlo Lo stato di cose presente Hanno ideato Un sistema perfetto Se ci pensi Che funziona Sui principi Avvertimento Come l'esempio Che facevo prima Quando l'esercito Notifica Che ti sto per invadere La dichiarazione di guerra Avvertimento Silenzio Assenso Se non mi rispondi Vuol dire che sei d'accordo Peggio per te Se la banca cambia le condizioni Cosa che fa in continuazione È obbligata a mandarti Il documento Come si chiama Di trasparenza bancaria Quello è l'avvertimento Se tu non rispondi E sai quante persone Non lo leggono neanche Quello è silenzio E assenso Ma intanto loro L'avvertimento Te l'hanno mandato Tutta la storia Del nostro mondo Da secoli E secoli E secoli Se non millenni Ha sempre funzionato Secondo questo principio Ora Come funziona Questo principio Innanzitutto Dobbiamo capire Le premesse Le premesse Su cui si fonda Tutto il sistema In cui viviamo oggi Le leggi Cosa sono le leggi Tutte le leggi Derivano da canoni Canoni Da cui la parola Diritto canonico E infatti le leggi Tutte le leggi Hanno a che fare In qualche modo Direttamente Indirettamente Con le leggi Divina E le leggi Ecclesiastiche Però canone In particolare Sono norme O principi Che traggono valore Dal fatto Di non essere mai State contestate Lo ripeto Norme O principi Che traggono valore Dal fatto Di non essere mai Stati contestati Quindi Eccone alcuni Di questi canoni O di queste norme O principi Che sono riconosciuti Universalmente validi Perché nessuno Ha mai detto Che non devono essere Molti di questi Come vedrai Sono largamente Condivisibili E sono la base Del civile Convivenza Tutti i debiti Devono essere pagati Tutti i contratti Devono essere onorati Un altro canone Dice Tutte le controversie Portate di fronte Alla legge Devono essere risolte Di fronte Alla legge Cioè Se tu ricevi Un'accusa Per quanto infondata Per quanto ingiusta Per quanto immorale Per quanto illegale Quell'accusa E quella controversia Non può essere ignorata Da parte tua E' tuo l'onere Di dimostrare L'infondatezza Di quell'accusa Davanti alla legge Di fronte a cui È stata portata Ancora Un altro canone Importantissimo Qualsiasi affermazione Se non viene contestata Diventa valida Ricevi una multa Ricevi una sanzione Ingiusta Viene fissata Un'udienza Tu non ti presenti Amen Adesso saranno loro A decidere per te Cioè senza di te Il 99% Del diritto Delle procedure Giudiziarie Si basa Sulla presupposizione Di qualcosa Soltanto che Il 99% Degli esseri umani Non si preoccupano Di comprendere Quali sono Queste presupposizioni O non si preoccupa O non si preoccupa Di rifiutarle In altre parole Il sistema Il sistema Il sistema è ancora Adesso basato Sul sacramento Discende Discende sempre Un altro concetto Un altro concetto Un altro concetto Importantissimo Principio Importantissimo Da capire Che Ogni proprietà Costituisce Un diritto Associato A un trust Cioè A un sistema Fiduciario Adesso te lo spiego I potenti Possedere una casa Cosa succederà Con la terra Con la campagna Quando tu non ci sarei tu Quando tu non ci sarei più In mancanza di precise Disposizioni testamentarie Non dipende più da te Così La casa fisica Quella fatta di mattoni Cemente E tutto il resto E la casa intesa Come titolo Cioè come sistema fiduciario Cioè come trust Sono due cose diverse La casa intesa Come trust Come sistema fiduciario Prevede Sono tre parti in gioco Un esecutore Un amministratore E un beneficiario L'esecutore È sempre quello Che concede Il titolo Ed è sempre lo stato L'amministratore Quello che amministra Il titolo In questo caso È probabilmente Il catasto Il beneficiario Quello che poi Effettivamente gode Del bene In questo caso Sei tu Cioè il cosiddetto Proprietario Fra virgolette Di quel bene Ora tutto questo Che ti sto spiegando Non c'è niente di male Bisogna solo capire Se e come Lo stanno usando Contro di noi Così che funziona Legge Così funziona Il diritto Del mondo in cui viviamo Ora L'attuale sistema E ripeto Non sto divagando Sto arrivando al punto L'attuale sistema Che è basato Sul concetto di proprietà Fu creato dagli antichi romani Ora io mi sono sempre domandato Ma cosa si deve provare A essere tedeschi Uno Due Tre generazioni successive E nei libri Si continua a parlare Dei stermini nazisti Dei forni crematori In cui venivano messi Gli ebrei Dei campi di concentramento Ma cosa si deve provare A essere tedeschi Durante quella generazione Una generazione Due generazioni dopo Deve essere pesante Sentirsi tedeschi Immagina cosa sentono Dentro di sé Ho sempre pensato Bene Adesso che più approfondisco La storia Inizio a A Sapere A capire Cosa si prova A essere tedeschi Perché anzi Dovremmo tutti quanti Iniziare a chiederci Cosa si prova Ad essere italiani Perché noi italiani Dobbiamo cominciare A svegliarci Dobbiamo cominciare A capire Che abbiamo Un debito Carmico Da ripagare Nei riguardi del mondo Molto molto pesante Che ci piaccia O no Il nostro popolo È molto ricco Di virtù Di talenti Di bellezza Di gioia Di freschezza E così via Però Come si dice Ogni luce Ha le sue ombre Qual è quella caratteristica Odiosa Che tutti i popoli Del mondo Ci rinfacciano Proprio a noi Italiani Gli abitanti Di questa bella Verde penisola Esatto È la mafia È quella La caratteristica Odiosa Che ci rinfacciano E cos'è la mafia La mafia È la pigrizia Tu non vuoi lavorare Vuoi lavorare Alle spalle Degli altri È la furbizia Cioè L'assenza Di un codice etico La mediocrità Cioè Io da solo Sono una persona mediocre Però mi metto Insieme agli altri E insieme Ci facciamo forti Questo è la mafia È questa vocazione Parassitaria Di vivere Sulle spalle Degli altri Questa è la mafia Che tutti ci rinfacciano Ora Cos'è la nostra Classe politica Oggi Pigrizia Non vogliono Lavorare Furbizia Non hanno senso etico Mediocrità Da soli Non valgono niente Però si coalizzano Nel fare le cose insieme Parassitari Non c'è bisogno Di commenti Ora Quello che io ti domando La nostra classe politica Non è forse In un certo senso Una nostra espressione È uno specchio Di certe caratteristiche Della nostra società E allora io ti domando Apriamo io e te insieme Libri di storia E domandiamoci Com'erano gli antichi romani Che hanno conquistato Mezzomondo E hanno disseminato Il loro diritto Le loro regole del gioco In tutto il mondo Gli antichi romani Se dobbiamo essere obiettivi Dobbiamo essere onesti Dobbiamo essere persone Che hanno capacità Di autocritica Gli antichi romani Erano pigri Furbi Mediocri E parassitari E adesso te lo dimostro Tu immagini Una popolazione di culture avanzatissime Come quelle che andavano a invadere Come 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 Prendi gli antichi celti Per esempio Persone a parte Tutte le conoscenze Spirituali Religiosi Astrologiche Astronomiche Eccetera eccetera Ma persone con I celti non scrivevano il diritto Non avevano leggi scritte Per loro la parola Era la legge E la legge era Vivere in armonia Con la natura E gli uomini Gli uni con gli altri Punto Questa è la loro legge Una delle culture più avanzate Che esistesse da quei tempi E probabilmente ancora Fino ad oggi Ora immagina Che queste popolazioni Celtiche Con un livello di cultura E di civiltà Estremamente sofisticato Anche se non Nei nostri occhi Si vedono Invadere Da queste legioni E legioni Di antichi romani Ignoranti e presuntuosi Immagina Che questi antichi romani Dicono Adesso Questa è terra nostra Ora Per i celti La terra Non si può possedere Per gli antichi celti Della terra Si può solo Essere custodi E essere custodi Di un pezzo di terra Non è un titolo È una responsabilità I celti Avevano un sistema Di rilevamenti periodici Dovevano riferire Al resto della tribù O del clan In che condizioni Si trovava la terra Quindi se i confini Erano in ordine Se le condizioni Della terra Erano ancora buoni In salute Accettabile Eccetera Eccetera Allora Immagina che arrivano Da loro Questi antichi romani E dicono Noi Da oggi Iscriviamo Queste terre In un registro Questo registro Lo conserviamo A Roma E il proprietario Può essere solo Un cittadino romano Tu immagina La reazione Dei celti Probabilmente La prima reazione Sera stata State scherzando È impossibile Che state parlando Seriamente A parte che Per i celti La legge Come dicevo prima Non si può scrivere È un abominio Scrivere la legge Ma l'idea È di un registro Della terra È un abominio Eppure sul sistema Dei registri I romani Hanno creato Il loro impero L'impero romano È stato interamente Costruito Su un sofisticatissimo Cervellotico Sistema Di registri Che intestano La proprietà Della terra Ammesso che questo Sia possibile A nome Di cittadini Romani Cos'è questa? E io la chiamo mafia Prepotenza Pigrizia Parassitismo Non portavano valore Non volevano lavorare Quelle terre Non volevano arricchire Il valore di quei luoghi Prepotenza Pigrizia Parassitismo Noi italiani Io e te Abbiamo moltissimo Da farci perdonare Ma agli occhi Di tutti gli altri Paesi del mondo È veramente importante Che qua Ci cominciamo a svegliare E che il risveglio Parta da noi Così che noi ci si possa riscattare Ora il bello è che L'impero romano Non è Ancora finito Anzi L'impero romano Non è mai finito Non solo noi In Italia Ma tutto il mondo Vive ancora adesso In questo preciso momento Nel sistema Dell'impero romano Il sistema Dell'impero romano Non è mai cessato Ci sono state Le invasioni di questi Le invasioni di quegli altri Quando sono arrivate Le invasioni Dei Longobardi E siamo nell'ottavo secolo Il papa Incorona Come si chiamava Pipino il Breve Al re dei franchi Prima E poi dopo Il figlio di Pipino il Breve Cioè Carlo Magno L'abbiamo studiato a scuola Carlo Magno Viene incoronato Imperatore Del sacro romano Impero Da parte del papa Leone III E quello è il sacro romano Impero La diretta E ininterrotta Discendenza Dei metodi Dei sistemi Dell'impero romano La massima ambizione Per Carlo Magno Era diventare Imperatore Dell'impero romano Che poiché da quel giorno È stato incoronato Dal papa È diventato Sacro romano impero Bene Il sacro romano impero È esattamente quello Che noi abbiamo oggi Ma ripeto Non solo in Italia In tutto il mondo Il sistema che abbiamo oggi Di organizzazione Della proprietà E quindi del diritto E quindi del denaro E quindi della politica E quindi del Perché queste cose Sono tutte collegate Fra di loro E non si possono separare L'attuale sistema Nasce nel 1302 Che è la data Della bolla papale Una bolla papale Scritta da Papa Bonifacio VIII Che si intitolava Unam Sanctam Ecclesiam Ora Bonifacio VIII È considerato Uno degli uomini Più corrotti E malvaggi Di tutti i tempi Non da me Ma da Dante Alighieri Che lo mette Nel punto più profondo Dell'inferno Nella sua divina commedia Bonifacio VIII Con questa Bolla Unam Sanctam Ecclesiam Creò il primo sistema Di trust Il primo sistema fiduciario Dicevo che tutte le proprietà Non sono in realtà proprietà In senso letterale Ma sono in realtà In quanto Titoli di uso Autorizzazione all'uso Ti ho fatto l'esempio Prima della casa Ecco Questo sistema Nasce Per quanto riguarda I tempi moderni Con questo sistema fiduciario Creato Da Bonifacio VIII Cioè in pratica Con questa bolla papale Il Papa Affermò Che Dio Aveva affidato Tutti i titoli E tutte le proprietà Della terra Al Vaticano Ok Siccome ti ricordo Uno dei canoni E principi fondamentali Del diritto Cioè che Qualsiasi affermazione Se non viene contestata Diventa valida Questa affermazione Del Papa Bonifacio VIII Non venne contestata E dunque Divenne valida Dio Affidato Tutti i titoli Tutte le proprietà Del pianeta Al Vaticano Che in questa bolla Nominava L'esecutore L'amministratore E il beneficiario Di questa Struttura fiduciaria L'esecutore In questa bolla Viene spiegato Chiaramente Chi è L'esecutore Di questo atto C'è uno stemma Ben visibile Nella bolla Che è quello Dei frati minori Francescani Con sotto La bandiera Dei gesuiti Che originariamente Venivano creati Come parte Dell'ordine Dei francescani Chissà per quale Bizzarra ragione Vabbè Si era fatto in modo Che Dio Avesse incaricato I frati minori Francescani Che poi Vabbè Nella persona Di questi Di questa Come posso dire Ramo Dei francescani Che originariamente Erano questi gesuiti Fondati a Venezia In circostanze Che sarebbe molto interessante Approfondire Magari questo Lo rimandiamo Questo è l'esecutore L'amministratore Di questo trust È il papa I beneficiari Di questo trust Sono tutti gli uomini Del mondo Cioè Come funziona Cos'era questa dichiarazione Questa affermazione papale Diceva che Praticamente La bolla Unam Santam Ecclesiam Utilizza la metafora Del diritto marittimo Cioè del diritto Dell'ammiragliato Dice che Unam Sanctam Ecclesiam Cioè l'unica Santa chiesa Prima e unica Di tutti i tempi È l'arca di Noè Dove la Bibbia Ci racconta Che tutto il resto Del mondo Era sommerso Dall'acqua L'unica cosa Che si levava Al di sopra Di quelle acque Era l'arca di Noè Unam Sanctam Ecclesia Ecclesiam Dunque Tutti gli esseri umani In quel momento Poché il mondo Era sommerso Dall'acqua E la Bibbia Lo certifica Tutti gli esseri umani A partire da quel giorno Sono considerati Dispersi il mare E il Papa Reclama Tutta l'autorità Tutta la proprietà Sia spirituale Che temporale Fino a quando I dispersi Coloro che sono dispersi Per mare Torneranno a reclamare I loro diritti Cosa che fino ad oggi Da 1300 ad oggi Non è ancora successa Perché tutte le nazioni Contemporanee Discendono ancora oggi Da questo sistema giuridico E questo sistema Si autogiustifica Col diritto divino Ecco perché Non si può parlare Di politica Senza parlare di religione Non si può parlare Di economia E di finanza Senza parlare di religione Ma adesso ci arriviamo Il secondo trust Creato sempre in Vaticano E' il Vaticano Che ha creato Questo sistema Di questi tre trust Sono tre trust Consecutivi Nel 1455 Cioè 150 anni Dopo la bolla Di Bonifacio VIII E quindi evidentemente In 150 anni Nessuno aveva ancora Contestato la precedente Affermazione papale Questo trust È di natura Testamentaria Cioè il Papa Dispone Che al momento Della morte sua E dei futuri papi Dispone come deve funzionare Il diritto d'uso Di tutti i privilegi Di tutte le proprietà Derivanti Dalla bolla precedente Di Bonifacio VIII E quindi qui viene creato Questo nuovo trust In base a questa legge Di cui l'esecutore È la curia romana L'amministratore È il collegio Dei cardinali E il beneficiario Questa volta È il re Sulla terra Di proprietà Del Papa Allora ricapitolando Dio ha dato Tutto il mondo Al Papa Il Papa Con questa bolla Concede pezzi Di questo mondo Ai re Per cui da quel momento I re del mondo Diventano Per mandato divino Diventano re Per mandato divino E questa encivica Si chiama Ed è 1455 Si chiama Romanus Pontifex E fu E emanata da Papa Niccolò Niccolò V In cui si diceva Anzi guarda Ti leggo proprio un pezzo Vediamo se lo trovo Poiché abbiamo concesso Precedentemente Con altre lettere Nostre Fra le altre cose Piene e completa Facoltà Al re Alfonso Di invadere Ricercare Catturare Conquistare Soggiogare Tutti i saraceni E qualsiasi pagano E gli altri nemici Di Cristo Ovunque essi vivano Insieme ai loro regni Ducati Principati Signorie Possedimenti E qualsiasi bene Mobile e immobile Che sia di loro proprietà E di gettarli in schiavitù Perpetua E di occupare Appropriarsi E volgere ad uso E profitto proprio E dei loro successori Tali regni Ducati Conte Principati Signorie Possedimenti E beni In conseguenza Della garanzia Data Dalla suddetta concessione Il re Alfonso Qui il papa Niccolò V Si riferiva al re Alfonso Di Portogallo Stava concedendo Il portogallo Il re Alfonso Il re Alfonso O il detto infante A suo nome Hanno legalmente Legittimamente Occupato le isole Terre Porti Acque E le hanno possedute E le posseggono Ed essi appartengono E sono proprietà Deiure Del medesimo re Alfonso E dei suoi successori Possano compiere E compiano Questa pia E nobilissima opera Degna di essere ricordati In ogni tempo Che noi Essendo da essa favoriti La salvezza delle anime Il diffondersi della fede E la sconfitta E i suoi nemici Consideriamo un compito Che concerne Dio stesso La sua fede E la Chiesa universale Con tanta maggiore perfezione In quanto Rimosso ogni ostacolo Diverranno consapevoli Di essere fortificati Dai più grandi favori E privilegi Concessi da noi E dalla sede apostolica Quindi questo È un estratto Dalla bolla Romanus Pontifex Di Papa Romano V Il terzo trust Consecutivo Creato al Vaticano Accade Appena trent'anni dopo Nel 1481 Papa Sisto IV Si intitola Eterni Regis Ti sto dando tutti i nomi In cognome Così puoi andare a fare Le tue ricerche Per favore Non credere a niente Di quello che ti dico io Perché l'ho detto io Fai le tue ricerche E fai le tue verifiche Con questo terzo trust Papa Sisto IV Diciamo un po' È la stessa cosa Del precedente Però qui Il bene Oggetto del trust Non è più la terra Che viene concessa Dal Vaticano Ai monarchi Ma sono gli esseri umani Che abitano quella terra Che da quel momento Vengono considerati Incompetenti Incapaci Dunque soggetti D'amministrazione Coatta In realtà Questa ultima bolla Di Papa Sisto IV Realizza la visione Illuminata Di Bonifacio VIII Per cui gli esseri umani Sono dispersi in mare Nulla ci appartiene Siamo in bancarotta Perché non siamo mai Tornati a reclamare I nostri averi E quindi siamo In uno stato Di amministrazione Coatta Dove è lo stato Che si deve prendere Cura di noi Per il nostro bene Questo è il sistema In vigore ancora oggi E te lo sto per dimostrare Ora fra parentesi Io ti ho citato I contenuti Di queste tre bolle E tu puoi naturalmente Fare tutte le tue ricerche E vedrai confermato Ciò che ti ho appena raccontato Però fatto sta Che gli originali Di queste bolle Non sono visibili Questo perché Fino al XVIII secolo Il Vaticano Scriveva le proprie bolle Non su carta Che era considerata Un mezzo privo di vita E quindi privo di valore Si considerava A quei tempi Cioè fino a due secoli fa Fino a pochissimo tempo fa Che un documento Per essere valido Doveva essere scritto Su un documento vivente Era firmato con il sangue Ed era scritto Su una pergamena Fatta di pelle umana Se quello che ha appena affermato Ti sembra assurdo E dici Oddio non può essere vero Numero uno Fa le due ricerche Numero due La recente firma Del trattato di Lisbona Che è un crimine riguardo All'umanità Su cui si potrebbe discutere All'infinito solo su questo Di come gli stati Hanno ceduto Tutti i diritti Dei loro popoli A questa fittizia Unione europea Vabbè Ma questo diciamo Togliamolo di mezzo Questa recente firma Del trattato di Lisbona C'è stata la ratifica Inglese Firmata di persona Alla regina Elisabetta Che ovviamente Essendo lei di sangue blu Non poteva firmare Un documento morto Letteralmente lei non poteva E' una regina Non può farlo Quindi la ratifica inglese Al trattato di Lisbona È arrivata Sotto forma di Pergamena di pelle Di capretto Se cerchi online Trovi ancora adesso La notizia su tutti i giornali Se magari ti aiuta A conoscere l'inglese Pelle di capretto Si dice Goat skin Tu leggi Treaty Lisbon Treaty Goat skin E vedrai Che la regina Elisabetta Ha firmato Probabilmente col sangue Su una pergamena Fatta di pelle di capretto Ora Questa è storia Anzi questa è cronaca Recentissima In particolare La storia ci tramanda Che le bolle papali In particolare Erano scritte Su pelle di bambini Questo spiegherebbe Perché sarebbe Imbarazzante Probabilmente per il Vaticano Mostrarci le originali Continuiamo fra 15 secondi Ok Nel ricordare sempre In segno di rispetto Che se e quando uso il termine Chiesa cattolica Non mi riferisco Alle milioni in Italia E ai miliardi nel mondo Di persone buone Con la B maiuscola Di persone di buon cuore Che hanno riposto La propria fede La propria vita religiosa Nelle mani di un Dio creatore Fatto di bontà E così via Che hanno riposto Le proprie fede Nel cristianessimo Nel cattolicesimo Non mi riferisco A queste persone Milioni di persone Di buon cuore Che sono le persone Di miglior condotta etica Condotta morale Sanità di principi E così via Fra le migliori Che possiamo trovare Intorno a noi Mi riferisco Specificamente Alla setta Perché non so Come altro chiamarla Che detiene Il potere All'interno Dello Stato Del Vaticano E se non sono Gli stessi cristiani Con la C maiuscola E cattolici Con la C maiuscola Che non imparano E non indagano E non investigano A fare questa distinzione Fra cosa significa La fede In un Dio creatore Fatto di bontà E cosa significano Quello che accade Ho ragionato così Per tanto tempo Anzi forse adesso Dovrei dire Per troppo tempo Io stesso ho ragionato Per tanto tempo Così Non ho diritto Di parlare Di queste cose Perché offendo I sentimenti religiosi Di altre persone Allora Qui dobbiamo decidere Stiamo parlando Fra bambini O stiamo parlando Fra adulti Maturi Che si assumono La responsabilità Di quelle in cui credono Io penso Che sia arrivato Il momento Di prendersi La responsabilità Di ciò che siamo E di quelle in cui crediamo E di investigare Come io faccio Il mio piccolo Nel mio sistema No Di quello in cui credo Cerco di farlo In maniera critica Autocritica Andando a scovare Le cose che non vanno Allo scopo Di migliorarle Così penso Che ognuno debba Farlo Nel proprio ambito Ora Il punto in cui volevo Avviare Il punto in cui volevo Arrivare È che oggi Incredibile ma vero Viviamo Ancora Nello stesso sistema Viviamo ancora In questo stesso sistema Che ho appena Delineato Con queste tre Consecutive bolle papali È in vigore oggi Questo sistema Non è ancora Stato sfidato Da nessuno Nel 1933 C'è stata La bancarotta Concordata Di tutte le nazioni Del mondo Che hanno Azzerato i propri debiti E hanno conferito Tutto Hanno proibito A tutti gli esseri umani Di possedere oro Lo hanno concentrato Nelle mani Delle stati E gli stati Hanno conferito Tutti Il proprio oro In un unico Pool O deposito Fondo globale Collaterale mondiale Per custodire Il quale È stata fondata La BIS La Bank for International Settlements Settlements La Banca per Transazioni Ho parlato di questo Per filo e per segno Nell'episodio 6 Quindi se hai dubbi Vattelo a riascoltare È tutto spiegato lì Questo processo Accade nel 1933 È un punto di svolta Fondamentale Nella storia recente Di cui nessuno parla Ma è il più importante Nella storia del secolo scorso 1933 Non solo Hitler Saliva al potere Tutti ce lo ricordiamo Per quello Ma Le nazioni Concentrarono Tutto il loro Oro In un unico Pool mondiale Fu fondata la BIS La Banca per Le Transazioni Internazionali Che ha sede A Basilea In Svizzera E fu fondata E controllata Indovina un po' Dai Gesuiti Ai Cavalieri Di Malta L'ultima volta Che ho controllato Il direttore generale Della Bank for International Settlements Ha un cognome Maltese Caruana Conosco benissimo Perché vivo qui a Malta Conosco il cognome E' tutto scritto Sul sito della BIS Perché loro ti dicono tutto Ti devono avvertire di tutto Tu hai il diritto di sapere E' sempre la legge del libro arbitro Ed è sempre la legge del consenso Se tu guardi Loro ti dicono tutto Nel 1933 Tutte le nazioni Furono messe in bancarotta L'oro mondiale Fu concentrato nella BIS Le nazioni Diventarono Società di diritto privato Registrate Presso la SEC Di New York SEC è la Security And Exchange Commission Che è più o meno L'equivalente Dal nostro Consob Cioè l'organismo Che ha il compito Di vigilare Sulle securities E sulla borsa valori Sostanzialmente Queste società Di diritto privato Chiamate nazioni Fammelo ripetere Apparentemente pubbliche Apparentemente nazioni Ma in realtà Società di diritto privato Possiedono oggi Possiedono oggi Il diritto di proprietà Sulle persone Nate in quello stato Lo ripeto Proprietà Sulle persone Nate in quello stato In base alle tre bolle papali Che abbiamo appena Finito di osservare insieme Allora quando ho letto Questa informazione Mi sono detto Non è possibile Le altre Non certo l'Italia Non certo l'Italia Che è una repubblica Democratica Fondata sul lavoro Non può essere Una società Di diritto privato Quotata in borsa L'Italia no Forse si riferivano All'Australia Si riferivano All'America E si riferivano All'Inghilterra Bene Signore e signori Mi ci sono voluti Tre minuti di ricerca E sono bastati Sul sito della SEC Per trovare La registrazione E il numero di registrazione Di Italy Virgola Republic of Repubblica italiana Company registration number 00005272 E ti ho messo il link Ti ho messo il link Fra le risorse consigliate Puoi andare anche a vedere tu La pagina in cui La compagnia di diritto privato Chiamata Repubblica italiana È quotata È depositata Presso la SEC Qui c'è scritto pure Ti leggo Business address È Ministero dell'economia E delle finanze Via 20 settembre 97 Ad oggi Mailing address È presso studio legale Bisconti Viale Salandra 18 In Roma E qui ci sono tutti i dati Tutti i documenti Tutti i report annuali Tutto quello che è successo Tutte le cessioni di quote E tutto Può andartelo a vedere Ti ho messo il link E quindi questa Credo Che dovrebbe essere sufficiente A dimostrare una volta per tutte Che quella in cui viviamo È Non è La Repubblica italiana Come ci hanno insegnato a scuola Ma è una società Di diritto privato Una private company Chiamata Repubblica italiana E Spero che tu ti rendi conto Della gravità Di quello che ho appena detto Lo Stato Cioè Questa azienda privata Che ci fanno credere Che sia uno Stato Che ci fanno credere Che sia la cosa pubblica Possiede il titolo Di proprietà Sulle persone Nate nel suo territorio In base alle tre bolle papali Che abbiamo appena osservato insieme Però se ti ricordi bene Quando dico Che possiede proprietà Sulle persone Ti ricordi bene Dicevo che la proprietà Costituisce un diritto Associato a un trust Perché i potenti Sanno che la proprietà In senso stretto È un concetto fittizio Ed è impossibile Possedere Fisicamente Altre persone Quindi come puoi possedere La terra Le case L'auto Come puoi possedere Le persone Bene Puoi possederle Tramite un titolo Di proprietà Che te ne conferisce Il diritto d'uso Per incredibile Che possa sembrare Questo è esattamente Quello che accade Proprio adesso Al momento Della tua nascita Senza avvisarti È stato creato Un trust Cioè un sistema fiduciario Che ha per oggetto La tua esistenza In vita E i tuoi genitori Hanno avvallato E firmato Questo trust E io Ho firmato E avvallato Questo trust Fatto Ai danni Dovrei dire Dei miei figli Senza essere avvisati È proprio negli anni Trenta Guarda caso Che diventava Obbligatorio Registrare le nascite Perché oggi Non puoi dire No, non lo voglio registrare Benché Questo poi lo vedremo Magari in un prossimo episodio Fatto sta Che i tuoi genitori Firmando E riconoscendo Ti hanno consentito E qui torno al discorso Il consenso Perché in questo mondo Niente si fa Senza il nostro consenso È stato dato Un consenso Però in questo caso Senza essere Debitamente informati Ed ecco La frode Ecco perché Questo sistema È fraudolento Però il sistema È sempre quello A suo modo Mantiene l'onore Loro ti avvertono Poi Sono fatti i tuoi Silenzio Assenso Loro possono procedere In realtà Il certificato di nascita È un avvertimento Il certificato di nascita È la costituzione Di una personalità Giuridica Fittizia Che non appartiene a te Ma appartiene a loro Se pensi che il certificato di nascita Appartenga a te Prova ad andare in qualche anagrafia A chiederlo Vedrai Che non c'è nessun modo Al mondo di riceverlo Ti possono dare L'estratto Dell'atto Eccetera eccetera Non il certificato di nascita Il certificato di nascita Appartiene a loro Perché la persona Giuridica Fittizia Che è descritta In quel certificato di nascita Non appartiene a te Ma appartiene a loro Come a dire che Fai attenzione Da questo momento Esistono due entità Italo Cillo Facciamo finta Che tu ti chiami come me Italo Cillo Ti ricordi prima L'esempio delle due case Ci sono due case Una casa vera Fatta di mattone e cemento E cemento Una casa fittizia Che è in realtà un trust Dove ci sono Un esecutore Un amministratore Un beneficiario Ok Come vedi Ci sto arrivando Non ho divagato Con tutte quelle cose Che ti ho spiegato prima Il Da questo momento Esistono due Due entità Ben distinte Separate Esiste un Italo Cillo Essere umano Fisico In carne ed ossa E Italo Cillo La persona Che come dice la parola Persona Deriva dal latino Per Persona Attraverso i suoni Era la maschera Che si esprimeva Attraverso i suoni Che si usava Nelle commedie E nelle rappresentazioni teatrali No? Questa maschera Si esprimeva attraverso i suoni Persona Ed è una maschera È un intermediario fittizio Non è l'essere umano Quindi da questo momento Dalla tua nascita Esiste l'essere umano fisico Che sei tu E la persona Che non sei tu Ma che è una finzione giuridica Ma che è un trust E che è un sistema fiduciario Che ha per oggetto La tua esistenza in vita Questo trust Guarda caso È creato In base Alla legge marittima O alla legge Dell'ammiragliato Che trascende Le leggi Delle singole nazioni E che è la giurisprudenza segreta Dei potenti Di cui abbiamo parlato In un precedente episodio In questo trust Che viene fatto Su di te O sulla tua esistenza in vita Al momento in cui tu nasci Chi è l'esecutore? L'esecutore È sempre un organo dello Stato Chi è il beneficiario Attenzione Di questo certificato di nascita Cioè di questo trust È la società Di diritto privato Chiamata Repubblica Italiana Un'azienda Beneficiario di cosa? Bene Questo è l'aspetto più importante È presto detto Di cos'è beneficiario Lo Stato italiano È beneficiario di un bond Cioè un titolo Che viene messo Al momento della tua nascita E che attualmente Viene stimato Approssimativamente Intorno ai 2 milioni In pratica Lo Stato crea Alla tua nascita A 2 milioni Un bond O titolo È il collaterale Di questo bond E di questo denaro Praticamente Il collaterale È la tua esistenza in vita Cioè il tuo certificato Di nascita Cioè il tuo lavoro futuro Il fatto che si presuppone Che tu da quel momento in poi Lavorerai Funge da collaterale Ecco qui Come ti hanno schiavizzato Funge da collaterale Di quei 2 milioni Il tuo bond Che ovviamente Non è tuo Ma appartiene a loro Viene depositato Alla SEC Come security Ed entra Fa parte Del patrimonio Di quella Private company Che noi chiamiamo Fraudolentemente Repubblica italiana Ora questo è abbastanza scioccante Beh spero di sì Però ti ripeto Non crederci perché te l'ho detto io Ti invito a non credere niente Perché lo dico io Fai per favore Da te le tue ricerche Perché il bello Deve ancora arrivare Fino ancora ti ho detto Fino ad ora ti ho detto Chi è l'esecutore Di questo trust E ti ho detto Chi è il beneficiario Di questo trust Ma non ti ho ancora detto Chi è la terza parte Perché Per dar vita A questa finzione giuridica È obbligo Che ci sia un amministratore Cioè uno che per contratto Il contratto sarebbe il trust Si assume l'obbligo Di prendersi cura Del bene Che è oggetto del trust Il bene oggetto del trust È la tua esistenza in vita Chi è Che si fa avanti Come amministratore E si assume l'obbligo Di prendersi cura Di questo bene Ogni qualvolta Che qualsiasi autorità Qualsiasi autorità Dal vigile urbano Al giudice Della corte costituzionale Ti domanda È lei Pinco pallino Punto interrogativo E tu rispondi Sì In quel preciso momento Tu ti sei Autonominato Amministratore Di quel trust Sei caduto Nel tranello In cui ti hanno messo Fin dalla nascita Perché loro Nella finzione Ti hanno fatto credere E hanno sempre Voluto farti credere Che tu sei L'amministratore Di quel trust Nella realtà Invece Tu E quel trust Che porta il tuo nome Siete due entità Completamente distinte Separate L'essere umano Che sei tu Pinco pallino Si scrive Con le iniziali Maiuscole E tutte le altre Lettere Minuscole La persona Giuridica Invece Fittizia Si scrive Tutta con le lettere Maiuscole Guardati in tasca Apri la tua Borsetta Vai nel portafoglio Vai nei cassetti Dove tieni Conservato il passaporto Apri tutti i tuoi documenti Passaporto Carta di identità Patente Codice fiscale Codice sanitario Non troverai Uno Solo Di questi Che non sia scritto Tutto a lettere Maiuscole Vai in banca Domanda L'impiegato Le dispiacerebbe Scrivere il mio nome Con l'iniziale Maiuscole E le lettere Minuscole Quello potrebbe essere Così ignorante Da provarci Ci prova E ti risponderà È impossibile Il sistema Non è in grado Di scrivere Le sue lettere Il suo nome A lettere Minuscole Questo è il trust Di cui Vogliono Che tu ti nomini Che tu Ti autonomini Amministratore Quindi adesso Capirai meglio Forse Cosa intendevo dire Prima Questo è un podcast È un episodio Da riascoltare Almeno due Se non tre O quattro volte Il 99% Del diritto Delle procedure Giudiziarie È basato Sulla presupposizione Si presuppone Che qualcosa Sia vero E nessuno Mette in discussione Quella presupposizione E in altre parole L'ho detto prima Adesso lo ripeto Forse per te Avrà un significato Diverso Il sistema È ancora Basato Sul sacramento Della confessione Esattamente Come i tempi Dell'inquisizione Per funzionare Il sistema Ha bisogno Che tu Accusi Te stesso E torniamo Al discorso Del consenso Il sistema Non può funzionare Senza il tuo consenso Senza il tuo Libero arbitrio È indispensabile Che tu accusi Te stesso Di cosa? Del peccato originale Cos'è il peccato originale? È la frode È l'utilizzo Di un nome Che non ti appartiene Da quando tu sei nato E il nome scritto Tutto a lettere maiuscole È una proprietà Intellettuale Dello Stato E loro ti hanno messo In condizioni Di usare Fradolentemente Un nome che non ti appartiene Allora Sei nato privo Di diritti Sei nato In bancarotta Perché la tua vita E il tuo nome La tua esistenza In vita Sono amministrati E sono gestiti Da altri Che non sei tu Sei Da quando sei nato In un regime Di amministrazione Controllata Dove il tuo nome Non appartiene a te Ma appartiene ad altri Ancora peggio Secondo il codice Dell'ammeraliato Il codice marittimo Sei nato disperso In mare E questo che dicono Le bolle papali E tutto il diritto attuale Si basa su quelle bolle papali Tu sei nato Attraverso il canale uterino Sei caduto in acqua Sei disperso in mare E non hai mai raggiunto La terraferma Cioè non hai mai potuto Alzarti in piedi E dire Io sono Un essere umano Libero Davanti a Dio Perché loro E' usando la giustificazione Di Dio Che fanno di te Quello che vogliono Sono loro A usare la parola Dio Sono loro A chiamare in causa Dio Sono loro Che hanno chiamato Sono loro Che hanno tradotto La Bibbia Usando il termine Dio Che originariamente Non c'era scritto Nella Bibbia Il diritto è sempre Di provenienza divina Noi siamo creature Divine E loro lo sanno bene Non possono creare Un diritto fittizio Hanno assoluto bisogno Di far discendere Il loro diritto Da Dio Quindi Loro usano questo Dio Se tu usi Il loro stesso Dio Ti sei autodefinito Incapace Non so se riesci a capire La perversità La perversità Di quello che sto dicendo Ti hanno messo In condizioni tale Per cui se tu Utilizzi quello Che loro ti hanno detto Di utilizzare È come se in un certo senso Hai confermato Che sei incapace Di prenderti cura Di te stesso Ti faccio un altro esempio Loro usano Una società di diritto Fingono che sia uno Stato Cioè un ente pubblico In realtà è una società privata Chiamata Repubblica Italiana E lo usano Per fare business con te Cioè Con quell'entità fittizia Che è appoggiata a te E che ha il tuo nome Tutto scritto a lettere maiuscole Ora se tu accetti Questo presupposto Ti sei autodefinito Incapace Cioè persona Che ha bisogno Di essere amministrata Perché tu non sai Neanche chi sei Ogni autorità Deve prima Ripeto dal vigile urbano Al giudice della corte costituzionale Deve prima chiederti Qual è il tuo nome E tu devi rispondere Altrimenti Non ti può neanche Toccare con un dito Non avrebbe la giurisdizione Per farlo Ovviamente parliamo Di diritto privato Amministrativo Commerciale Tributario Eccetera eccetera Se ammazzi qualcuno È ovvio che ti arrestano E le domande Te le fanno dopo E fanno anche bene Se per questo Però il principio di base Non cambia I loro tribunali I tribunali sono tribunali Di diritto privato I tribunali Sono tribunali aziendali Perché l'Italia È un'azienda Se ti chiedono Lei è Pinco Pallino E tu rispondi di sì Tu ti sei autodefinito Incapace Ai loro occhi Il denaro Le banconote di euro Loro ti hanno avvertito Sopra c'è scritto Questa è una proprietà Della banca centrale europea Ti hanno avvertito Il denaro non è tuo Se tu bruci il denaro Quello è reato Ti arrestano Il denaro non è tuo È loro Ti hanno avvertito Se tu accetti di usarlo Ti sei autodefinito Incapace Incompetente Ai loro occhi Quanti altri esempi Ti devo fare? Hanno creato un sistema Di governo Che loro chiamano La cosa pubblica E invece è una cosa privata Che include partiti Parlamento Governo Elezioni Se tu accetti Di partecipare A questo gioco Ti autodefinisci Incapace E incompetente Ai loro stessi occhi Come puoi pretendere Di cambiare in meglio Una cosa Che non appartiene A te Ma appartiene A loro Fin dall'inizio Il nostro inconscio Ce lo dice D'altra parte All'elezione Di questa settimana Ha votato Il 51% Dell'avente diritto Una persona su due Considera offensivo Per la propria intelligenza Andare a votare Ora Se tutto questo Che abbiamo stabilito Fino ad ora È chiaro E io ti invito A fare due verifiche Su questo Rimangono solo Due interrogativi Uno Cosa possiamo fare Individualmente Da persone singole Per sottrarre Il nostro consenso A questa frode Che ci vede protagonisti Fin da quando siamo nati E questo potrebbe anche includere Mettere in salvo Le nostre cose Le proprietà Che la banca L'equitalia E così via Ci vogliono portare via Perché siamo indietro Con i pagamenti Delle tasse Che sarebbero fittizie Perché non siamo noi A dovere le tasse Ma è la persona Giuridica Scritta tutta quanta A lettere maiuscole A livello individuale Possiamo salvarci Utilizzando le loro Stesse leggi In maniera tale Che siano loro A cadere in disondazione E non noi A cadere in disonore Perché tutto il sistema Architettato E in maniera tale Che siamo sempre noi A cadere in disonore A utilizzare un nome Che non ci appartiene A utilizzare strutture Che non ci appartengono E così via Alla fine siamo sempre noi Che cadiamo in disonore Ma conoscendo la legge Possiamo individualmente Fare qualcosa Che faccia cadere loro In disonore E costituire un rimedio Per la nostra situazione E questa è la prima domanda La seconda domanda Cosa possiamo invece fare Collettivamente Per creare Un'alternativa A questo sistema Che è marcio Che è fraudolento E che è stato ideato A loro favore Non al nostro favore Come possiamo modificarlo Se non ci appartiene Possiamo soltanto Smettere di partecipare Di questo ci occuperemo Nel prossimo episodio Così nessuno dice Che ho finito i miei argomenti Di cui non so più cosa parlare Di questo parleremo Nel prossimo episodio Ed è in effetti Dal primo episodio Che vado ripetendo Sono due I nodi cruciali Che dobbiamo risolvere Davanti a noi Per risolvere la situazione In cui ci siamo cacciati E come abbiamo fatto A cacciarci in questa situazione È ancora per me Adesso un mistero È un rompicapo I nodi cruciali Sono due Il denaro E come si prendono Le decisioni In realtà Come si prendono Le decisioni Alla fine È un po' più o meno Un sinonimo di politica Ora la mia ricerca Finora Non fa che confermare Che ci sono solo due Che i punti cruciali Sono esattamente questi Il denaro È il modo in cui Prendere decisioni Però c'è qualcosa in più Che abbiamo capito Non si possono trattare Separatamente Denaro Problemi economici La crisi economica Eccetera eccetera La politica Cioè il modo in cui Si prendono decisioni La religione E il diritto Non le possiamo trattare Separatamente Queste materie Perché per loro Sono la stessa cosa O si trova Rimedio per queste Quattro cose Come se fossero Una sola Oppure Non si fa altro Che rimandare Il problema Non risolverlo E Ingigantirlo Sempre più Tra 15 secondi Parliamo delle risorse Consigliate Per questa settimana Così ecco le risorse Di questa settimana Ti ho messo Il link diretto E anche un piccolo screenshot Alla pagina Nel suo sito Della SEC Security and Exchange Commission E che è la prova schiacciante Ed è la pistola fumante Che l'Italia È Un'azienda privata Depositata Presso la SEC Di New York E quindi I suoi Leggi Sono leggi aziendali I suoi tribunali Sono tribunali aziendali I suoi organi Sono organi aziendali E così via La seconda Risorsa Che ti ho messo Sono due video Sono due video Piuttosto scioccanti Sono due video In cui un oggetto volante Scrive nel cielo In pieno giorno Di New York Quella che è considerata La capitale del mondo Scrive Last chance Che significa Questa è l'ultima possibilità Ora perché Perché metto questi video Ci sono alcuni motivi Per cui consiglio questo video Ne ho messi due Perché guardando il primo Uno potrebbe dire Ma questo l'hanno fatto Con Photoshop Questo video Perché la telecamera È relativamente ferma Invece no Al secondo si capisce Che non è Photoshop E se vai su YouTube Ne trovi molti altri Basta che scrivi su YouTube Last chance Cioè l'ultima possibilità Chemtrail E ne trovi tanti altri Di video di quella giornata Perché voglio far notare Questo Ripeto A mio parere Scioccante video Perché Per le domande Che ho ricevuto E forse continuo a ricevere E di quelli che dicono Ma Italo Tu ti stai esponendo In prima persona Con questo podcast Ma e se poi Non succede niente E se poi Non è proprio Niente vero E non sta succedendo niente E tutto continuo Esattamente come prima Ecco Io non so Cioè Tu cos'altro È bisogno che succeda Se dieci anni fa Ti avessero detto Che in pieno giorno Nel cielo di New York Un oggetto volante Scrive Questa è l'ultima possibilità Tu come avresti reagito? Avresti pensato Che è un incubo O che è un film di fantascienza? Ora aspetta Perché il bello Deve ancora arrivare Questo Che ho chiamato Oggetto volante La domanda che ti faccio È Che Le scritte che tu vedi Che sono fatte Con la stessa tecnologia Delle scie chimiche No? Però stavolta Viene scritto nel cielo Last chance Questa è la tua ultima possibilità Sono enormi Le scie sono grandi Sono relativamente vicine Sono relativamente basse In proporzione L'aereo dovrebbe essere Non visibile Ma gigantesco E visibilissimo E allora la domanda Che ti faccio è Guarda questo video Ragiona con la tua testa Rispondi alla domanda E dici Dov'è il velivolo? Anzi ti domando Il mistero più grande In questo video Sono le scie O è l'oggetto volante? Quale aereo potrebbe mai Fare un'opera simile? Quale aereo potrebbe mai fare Evoluzioni simili? Sono impossibili da fare Per qualsiasi pilota Simili Evoluzione Lasciando perdere Quanto sarebbe difficile Scrivere Una scritta Nel cielo Stando nel cielo Quindi senza avere La prospettiva Di quello che stai scrivendo Non è difficile È impossibile Signore e signore Allora Fai la tua ricerca Su questo Lascia la tua opinione In merito Sul sito Nei commenti Su questo episodio L'episodio 8 E poi Un'altra osservazione Che si potrebbe fare È proprio nel merito Di quella scritta Questa scritta è Last chance Ultima possibilità Ed è un po' di quello che Di quello di cui ci siamo occupati In questo episodio Questo è l'avvertimento E questo avvertimento È fatto in conformità Con la legge universale Del libero arbitrio Perché noi abbiamo Diritto di sapere Qualcuno O qualcosa Ci sta dicendo Last chance Questa è l'ultima possibilità Cosa significa Poi Completali tu Puntini Puoi completarlo Con quello che vuoi Si potrebbe completare con Non credi ancora Nelle scie chimiche Allora guarda questo Oppure sei veramente Senza speranza Oppure si potrebbe pensare Come Non credi che sta succedendo Qualcosa Proprio sotto I nostri occhi Davanti ai nostri occhi Nel senso più letterale Del termine Proprio adesso Non pensi Che sta succedendo Nulla di anormale Bene Allora guarda qui O sei veramente Senza speranza E a questo punto Se non ti svegli Con questo Non c'è nient'altro Che ti possa far svegliare Questo è come io L'ho interpretato Ognuno di voi Lo può interpretare Come meglio preferisce Tra 15 secondi C'è naturalmente L'angolo degli ascoltatori Così eccoci arrivati All'angolo degli ascoltatori Che è l'angolo delle domande Riflessioni Commenti Feedback Mai come questa volta Ti dico Per favore Vai su questa pagina La pagina dove hai scaricato L'episodio 8 Del podcast E lascia il tuo commento Lascia il tuo contributo Come Mai come questa volta Per favore Fammi sapere Della direzione Cosa pensi Della direzione In cui stiamo andando Con questo podcast Questo Scusa Questo podcast Si basa Su una specie Di libero Contratto Fra uguali Fra Fra te E me Finché Mi dici Che questo ti interessa Io continuo a parlarne Quando tu dovessi dirmi Che questo non ti interessa Io certamente Smetto di parlarne E torno a fare Quello che facevo prima Quindi è sempre Mantenere È sempre bene Mantenere Sempre vivo Il contratto Da entrambe le parti Nonno Mario Nonno Mario È uno dei più attivi Attivisti Della nostra comunità E di tempo di cambiare È un avviso Invita tutti quanti A Brescia Al centro Fiera del Garda De Montichiari In questo prossimo Weekend 25 26 27 Maggio Dove in concomitanza Con il festival Dell'arte orientale Che include Anche le arti marziali E così via Ci saranno varie Manifestazioni Ci sarà il Beatles Day Sono stato una volta A Brescia L'occasione del Beatles Day Ma tanti 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 anni fa Ero a Brescia Tanto per cambiare Per tenere un corso Di meditazione E mi ricordo Che c'era questo Beatles Day E poi ci saranno Contemporaneamente I progetti Talent City Di cui Mario È un ispiratore E poi ci sarà L'esposizione di Gervais L'artista Che vi ho già presentato Nel secondo episodio La sua farà La sua esposizione Le sue opere In jail In galera The big arrest Il grande arresto E quindi Chi ci sarà Potrà conoscere Personalmente Sia Mario Il nostro Vivacissimo Mario Che scrive sul nostro forum Sulle pagine del nostro blog E sia Gervais E nel quadro Di tutte queste iniziative Ci sarà anche Un angolo chiamato Action Now A gire ora E tempo di cambiare Che è un'iniziativa Di Mario Ispirata a questo podcast E al messaggio Che stiamo costruendo Insieme con questo podcast Quindi sabato In particolare 26 maggio Dalle 14 alle 18 Sarà presentata E sarà possibile firmarla Una bozza Di quella che Mario ha chiamato La carta 26 aprile Perché è ispirata Al quarto episodio Di questo podcast Tempo di cambiare Che è stato fatto In data 26 aprile E che vuole essere Una specie di prima Migliorabile Dichiarazione di intenti Una dichiarazione Una dichiarazione di intenti Comune Su cui poi Si possa passare Dalla comprensione All'azione Perché è questo Lo scopo di questo podcast Prima capire E poi agire Per capire Bisogna essere Multidisciplinari Questo è importante Ma per agire Bisogna concentrare Le proprie forze Su un unico punto Di questo Ho già parlato Tante altre volte Nell'episodio precedente Il prossimo commento Invece E contributo È un audio Di un amico E di un collega È niente meno Che Max Formisano Della Max Formisano Training Ciao Italo Qui Max Formisano Ciao a tutti Tre cose Prima di tutto Ti volevo dire Grazie per le ore Probabilmente per le giornate Che investi A preparare questo podcast A noi sono invisibili Non c'è luce Su questo tempo Che dedichi Ma si vede Che c'è tanto tempo Mi chiede dove Tu possa trovarlo E quindi ora Devi continuare Ti tocca continuare Sulle tue spalle Ma anche sulle nostre La seconda cosa È che Sono contento Che hai benissimo Bilanciato Il calo di energie Che probabilmente Derivava da certe notizie Anch'io ho sentito Sino al terzo Un calo di energie Con una serie di notizie Certamente non piacevoli Anche se Realistiche E sono contento Che l'hai bilanciato Con le virtù E con Quella che probabilmente È la parte più profonda Dei tuoi podcast E l'ultima cosa È un forte Incoraggiamento A tutto il pubblico A riascoltare Almeno un'altra volta Tutti gli audio Questo è molto importante Io lo sto facendo Penso che poi Arriverò A una terza volta E non tanto Perché Per le notizie Perché comunque Dopo la prima volta Che c'è la curiosità Anche di capire Sapere Tutte le parti Sulle virtù Vengono prese Molto meglio Vengono assorbite Quindi Il mio forte incoraggiamento È riascoltare Almeno un'altra volta Gli audio Almeno quelli Dal quarto in poi Ma se vuoi Anche tutti Perché comunque Finché c'è gente Come noi Che ha la capacità Di rispondere Che è la traduzione Di responsabilità La famosa Cricca criminale Potrà anche Uccidere E fare stragi Ma non ce la farà Ad arrivare fino alla fine Perché il fine Dal mio punto di vista Non giustifica mai Il mezzo O i mezzi Molto bene Tante grazie Max Ringrazio Max Formisano Per il tuo contributo Personale Ti ringrazio Per il fatto Che sei il primo Formatore Il primo Nel panorama italiano Della formazione A dare il tuo contributo E il tuo sostegno A questo podcast E questo L'apprezzo moltissimo Come dicevo Non è più possibile Dire Chi se ne frega Non è più possibile Dire Farci i fatti nostri È veramente Arrivato il momento Per tutti quanti Di coinvolgerci In quello che sta accadendo E poi apprezzo molto Il fatto che Hai consigliato a tutti Di ascoltare Riascoltare Diverse volte E questo rinnovo L'invito soprattutto In particolare Per questo episodio E Sia perché ci sono Alcune cose Che meritano Di essere ascoltate Per essere capiti A fondo E sia perché È importante Per poi creare Le basi Di quanto potremmo Approfondire Nell'episodio O negli episodi Successivi Il contributo Il successivo Contributo Viene da Santi E colgo l'occasione Anche per salutare Con questa occasione Santi Perché ci conosciamo Di persona Ci siamo conosciuti Di persona Tanti anni fa Santi dice Faccio un breve intervento Solo per segnalare Una cosa Molto fastidiosa Controllavo spesso I link Dei commenti Per cercare qualcosa Di interessante Da postare Sul gruppo Che ho aperto Su facebook Ma rispetto a prima Mi sono accorto Che adesso I link postati Sono strappieni Di spam Evidentemente Molte persone Prendono il discorso Sotto camba E consapevoli Che molti utenti Controlleranno E il link Presente sul post Pubblicizzano I loro spazi Pensando solo Al loro guadagno Personale Forse qualcuno Dovrebbe cancellare I commenti Superflui Che trattano Argomenti Lontani Da quelli Trattati Lo spam Va bene Che c'è crisi Tutti cercano Di guadagnare Ma non si può Pretendere Che la gente Controlli Dieci link Prima di Trovarne uno Interessante Attilente All'argomento Va bene Grazie Il tuo consiglio Santi Lo accolgo C'è in particolare Un utente Luca Io non credo Che parliamo però Di cattiva fede Santi Qualcuno Che ha Tanto desiderio Di avvisare Gli altri Magari Non sono neanche Iniziative Di cui Lui O chiunque altro Trae Un guadagno Personale Raccomando a Luca E agli altri Evitiamo Cinque incursioni Consecutive Sul blog In cui ti do Il link All'ennesimo evento All'ennesima manifestazione All'ennesimo prodotto E così via E' come se si crea Uno squilibrio In questo senso E poi tanti potrebbero Considerarlo Come sgradevole Poi continua Santi E dice Italo non so Se hai dato un'occhiata Al gruppo facebook Ai video che ho postato lì Se hai un gruppo di persone Che si interessano All'argomento Sono disponibili A cedervi il controllo Della pagina Avevi ragionissima Quando dicevi Che si incontrano Argomenti Altamente disturbanti Non so fino a quando Porterò avanti Quel progetto Comunque è un progetto Già avviato Se vi interessa Ve lo cedo Molto volentieri Bene grazie Santi Avete sentito tutti L'appello di Santi Santi è il commento 277 Dell'episodio 7 Del nostro podcast E quindi potete Contattarlo direttamente Se potete rispondere Direttamente Se sulle pagine Del nostro Ovviamente Sulla pagina nuova Cioè sulla pagina Di questo episodio 8 Se siete interessati A proseguire il lavoro Di documentazione Fondamentalmente Informazione Dalla pagina facebook A lui è avviata E naturalmente Sì ripeto Accolgo La sua invito Tutte le cose A senso unico Non vanno molto bene Se vuoi contribuire Al blog Non è tanto carino Che vai E scrivi un link Dopo l'altro Senza leggere Quelli degli altri Se vuoi dare E anche giusto Prendere E viceversa Ma mi riferisco A tanti utenti Non solo a quello Che ho nominato C'è per esempio Ecco in questo scorso numero Con il video Della denuncia Dell'avvocata Dell'avvocato Paola Musu Qualcuno scriveva E poi il post sotto Diceva Io ho trovato un video Guarda questo Guarda questo Guarda questo Con la conseguenza Che 10-20 persone Hanno segnalato Tutte lo stesso video E se avessero guardato Un pochettino Qualche riga più sopra Si sarebbero accorti Che quel video Era stato già postato Una dozzina di volte Quindi cerchiamo Di partecipare Partecipare significa Non a senso unico Ma in tutti e due I sensi Sulla pagina Del nostro blog Poi Il commento È lungo È molto bello È molto intenso È molto profondo Ed è molto personale Evito di leggerlo tutto Per queste ragioni E lo trovi Sulla pagina Dell'episodio 7 Ed è un commento Di Manuel Per l'esattezza È il commento Numero 400 Del settimo episodio Ti invito A leggerlo Perché è molto bello Molto profondo È molto significativo È la testimonianza Di una persona Siropositiva E di cosa significa Trattare la propria condizione Con i farmaci Chimici Prescritti Dal sistema sanitario Vigente Che diventa Un aggravante Del problema Per non dire La causa del problema Anziché Una guarigione E di come invece Lui ha risolto I propri problemi Con le medicine alternative È una testimonianza Molto bella Per alcuni Può essere Non solo interessante Ma letteralmente Questione di vita E di morte E per tutti gli altri Sicuramente Un'esperienza umana Di cui ringrazio Manuel Per averla condivisa con noi Sicuramente Meritevole Di essere guardata Poi Vediamo cos'altro c'è Mi sembra che c'è Una domanda O alcune domande Pierpaolo Ci scrive Ciao Italo Sono Pierpaolo Ti ho conosciuto Nel sito Cerchia Ristretta Non sai quanto piacere Mi fa sentirti Parlare di questi argomenti E non parlo solo Degli avvenimenti Arresti di massa Eccetera Eccetera Bellissime le informazioni Che hai dato Sulla distribuzione All'oro Ma anche concetti Spirituali Anche pratici Materiali Che esprimi Dal modo come Ti sto conoscendo Adora giustifico Anche il tuo successo Nell'ambito economico Mi piace soprattutto Il metodo critico Che usi per comprendere Ciò che sta accadendo In questi tempi E mi è tra l'altro Molto familiare Quindi penso che In futuro parlerai Di altre cose Di cui ora stai omettendo Tipo il passaggio dimensionale Di cui siamo testimoni La nostra consapevolezza Che si sta espandendo Possibili incontri Con esseri Di altre civiltà E tutto il resto Ma non è di questo Che ti volevo parlare Quello che mi piacerebbe Comprendere da te È qualcosa Di cui mi occupo È qualcosa di cui mi occupo Si può dire Da una vita È il rapporto Fra vittima e carnefice Prendendo spunto Da quello che hai detto Nell'episodio 6 Sull'amore Mi è venuta una riflessione Soprattutto in base Alla mia esperienza personale Quando hai detto Che amare Significa volere La felicità altrui È partita subito L'analisi sul mio comportamento E il metterlo In discussione La conclusione è stata Anche in base A quanto appreso In questa esistenza Che questa frase È sicuramente vera Ma se non completata Potrebbe confondere qualcuno Per fare un esempio Potremmo dire Che alcune persone Sono felici Quando un'altra persona Soffre E anche nella loro O perché nella loro testa Questa merita di soffrire In questo caso Questo essere umano Non deve adoperarsi Per creare la propria infelicità Insomma E dice Conclude Pierpaolo È un equilibrio Molto sottile Che potrei esporre Con la frase Amare Significa volere La felicità altrui È anche la propria Cioè Dice Pierpaolo Per creare la felicità Degli altri Non bisognerebbe Dimenticarsi Di prendersi cura Anche della felicità Propria E questo Paolo In un certo senso Io lo do per scontato Anche se non l'ho detto Espressamente È una parte Molto importante Del mio insegnamento Per quelli che Lo conoscono Lo seguono Anche in ambito spirituale Da molto tempo Desiderare la felicità Degli altri Non significa affatto Consentire agli altri Di lasciare Calpestare Il proprio spazio Ognuno di noi Ha un proprio spazio E deve essere protetto Ognuno di noi Ha il nostro Tempo E deve essere protetto Quando lasci Quando lasci Che un'altra persona Danneggi te stesso Il tuo spazio Il tuo tempo Stai facendo tanti sbagli Stai danneggiando te stesso Stai danneggiando la tua dignità Stai danneggiando la tua autostima E soprattutto Stai permettendo A un'altra persona Di accumulare Cattivo karma Quando ti lasci Torturare O come dire Anche psicologicamente Intendo dire Violentare Anche psicologicamente Intendo dire Da un'altra persona Anziché andarsi Anziché andarsi Andarsi da un'altra parte Cioè interrompere Quel contratto Sta permettendo All'altra persona Di accumulare Cattivo karma In un certo senso Si crea una Corresponsabilità Ecco perché Non farti mai trovare Non farti mai convolgere In rapporti Che hanno per oggetto Il danno Di ciascuno Di chiunque Di due O sei tu a danneggiare L'altro e non va bene O è l'altro A danneggiare te E questo va ancora peggio Meglio che te ne scappi Il più lontano possibile Perché quello Non è un luogo Salutare In cui Rimanere E questo spero Che risponda Ai tuoi dubbi Ai dubbi tuoi E anche di qualcun altro C'è ancora una domanda Da parte di Stefano Stefano dice Ah sì È sempre una domanda Sul mio Linguaggio di marketing Il linguaggio di marketing E quindi Riflette ancora una domanda Che veniva fatta Nello scorso episodio Sul mio linguaggio di marketing Che uso Nel vendere i miei prodotti Mi dice Caro Italo Grazie Come al solito Di tutto quello Che fai per noi Purtroppo anche il capitolo Satanismo Anche se nauseabondo Fa parte del gioco E quindi bisogna trattarlo Circa il tuo marketing È un po' troppo spinto Ma non in assoluto Ma in quanto Tu sei universalmente Riconosciuto Come un padre spirituale Domanda Come vedresti Il Dalai Lama Se ti proponesse In continuazione I suoi prodotti Con affetto E simpatia Stefano Bene Al di là del garbo Con cui Stefano Mi fa la sua domanda È una domanda In cui ci tengo tantissimo A rispondere a questa domanda Ma non per me Ma per chiunque Ascolta Perché qui secondo me C'è un errore di fondo In questa domanda Una presupposizione di fondo Che rischia di farci del male A tutti quanti Rischia di paralizzarci A tutti quanti Allora Cominciamo col dire Che il Dalai Lama È il Dalai Lama Ed è il Dalai Lama Punto e basta Vive in Oriente Vive in India Ha i suoi voti monastici Da rispettare Fra questi voti monastici C'è quello che Non si può toccare denaro Non ci si può Impegnare in attività Di natura commerciale È così come tanti altri voti Da rispettare Fra cui Quello del celibato E molti altri Sono più di 600 voti Se non ricordo male Quelli dei monaci Il suo stile di vita È possibile in Oriente Non in Occidente Non ti nascondo È quando ero Molti anni fa 25 anni fa Quando ho incontrato Il buddismo Tante volte Sono stato tentato Dal pensiero Di diventare Io stesso monaco E come si dice Rinunciare al mondo E dedicarmi solo Ed esclusivamente Alla vita spirituale E in certe fasi Non l'ho fatto Solo ed esclusivamente Perché ero già sposato Con la mia Adorabile Consorte Compagna di questa vita Non fosse stato per lei Non ci avrei pensato Neanche per un attimo A fare questo tipo di salto Ma adesso sto divagando Quel tipo di stile Oggi sono felice Di non aver fatto Questa scelta Quella scelta probabilmente Il suo stile di vita È possibile in Oriente Perché esiste Una cultura tale Per cui Chi fa quella scelta di vita Di povertà Per esempio Esistono i laici Esiste il popolo Esiste la gente Che vive nelle città E così via O nelle campagne Che li sostiene Con la propria Generosità economica I monaci Quindi i monaci Possono fare i meditanti A tempo pieno Qui in occidente Non esistono i meditanti A tempo pieno Perché la nostra cultura È diversa La nostra cultura Dici che se tu Non produci Sei un parassita E a me non interessa niente Se tu ti dedichi Dalla mattina alla sera Alla meditazione Per il bene di tutti gli esseri Comunque sei un parassita Perché non hai prodotto Ora questa è la cultura occidentale Nel bene o nel male Se decidiamo di vivere in occidente Dobbiamo rispettare Questa sensibilità E dobbiamo rispettare Questa cultura Quindi E d'altra parte Forse avrà pure un senso Che siamo nati in occidente Perché altrimenti Saremmo nati in Oriente E allora potremmo fare Quell'altra cosa Che dici tu In occidente Dobbiamo vivere nel mondo E al tempo stesso Cercare anche un po' Di migliorare noi stessi E un po' Di migliorare il mondo Però sotto lì Soprattutto dobbiamo Vivere nel mondo E vivere nel mondo Significa Prenderci cura Del nostro lavoro Prenderci cura Delle nostre famiglie Nostra moglie Nostri figli Le nostre finanze Tutte cose che ovviamente Che se chiedi a un monaco tibetano Non sa neanche Dove cominciare A risponderti Perché non è Alcuna esperienza personale Ora Stefano Veniamo al dunque Tu mi dici Il problema non è in quanto tale Ma il problema è che tu sei Universalmente riconosciuto Come un padre spirituale Ora io ti rispondo Io non voglio Essere universalmente riconosciuto Come un padre spirituale Assolutamente Perché altrimenti Questo diventerebbe Paralizzante Per te Per tutti voi Per tutti gli ascoltatori E gli altri Perché uno dovrebbe pensare Che per impegnarsi Nel mondo A fare qualsiasi cosa Bisogna essere perfetti Bisogna essere perfetti Io non sono perfetto Io ho un sacco di difetti Vado soggetto ai miei Scatti di ira Vado soggetto ai miei attaccamenti Vado soggetto alle mie avversioni Mi piace lavorare Quando credo al mio lavoro Mi piace guadagnare soldi Mi piace amministrare soldi Che guadagno Che razza di esempio Sarei per gli altri Se fossi perfetto Io sono una persona normale Tutti dobbiamo essere normali Anzi Tutti dobbiamo imparare A diventare persone normali Nessuno deve cercare Di diventare diverso Da quello che è Perché questo è uno spreco D'energia enorme Che si chiama Conflitto interiore Specialmente in questo periodo Uno dei più grandi sprechi D'energia che esista Fai molto prima E fai molto meglio Apprendere quello che già sei Così come sei E metterlo a servizio degli altri Sia spiritualmente Frutta molto meglio E sia materialmente Frutta molto meglio Quindi Riepilugando Non sono il Dalai Lama Non voglio essere considerato Un padre spirituale di niente Vivo vendendo i miei prodotti Perché è così Che mi guadagno da vivere E questo mi permette Di vivere il mondo A testa alta Perché non devo chiedere Le mosi a nessuno Chiedere le mosi È un po' incompatibile Con il mio tipo di carattere Quindi Questo è quello Che faccio per vivere E sono fiero di farlo Così gli altri Possono seguire il mio esempio E mentre vivono nel mondo Facendo le cose del mondo Possono anche un pochettino Lavorare Per migliorare se stesse E lavorare Per migliorare il mondo Quindi lo ribadisco Io vivo di questo Comprate i miei prodotti Comprate i miei prodotti Comprate i miei prodotti In risposta a Stefano Non sono il Dalai Lama Quindi posso dire Comprate i miei prodotti È così che mi guadagno da vivere Mi guadagno da vivere Con www.cerchiaristretta.it Che è un sito che ti insegna A guadagnare su internet Attraverso le tue passioni E mi guadagno da vivere Questo non avevo mai parlato Fino ad ora Di www.meditazioneguidata.it Sicuramente può interessare A tantissime persone Specialmente in questo episodio Dove non ho parlato Per ragioni di tempo Ho saltato l'angolo spirituale L'angolo delle riflessioni spirituali Uno dei miei siti È www.meditazioneguidata.it Dove insegno Una semplice ma efficace pratica Di meditazione E con questo Chiudo lo spot pubblicitario Per oggi La domanda successiva È di Nerea E al di là dello spot pubblicitario Spero che il messaggio Sia arrivato chiaro e forte A tutti quanti Perché il nostro mondo Oggi non ha più bisogno Di guru vecchio stile E non ha più bisogno Di leader vecchio stile Sul piedistallo Ce l'ha detto anche Marco Dell'astrologia dei Maya È finito il periodo Del leader Del maschilismo E dell'uno E molti che seguono Come tante pecore Se cerchi un leader In questo periodo Se cerchi un padre spirituale Guardati nello specchio Perché è solo lì Che lo puoi trovare Va bene La domanda successiva È di Nerea A cui vanno I miei doppi saluti Perché è una cara amica Che ci conosciamo Da anni E anni E anni Caro Italo Schiveneria Sarà perché è ormai Una vita che segue I tuoi insegnamenti Ma mi trovo assolutamente In accordo con te Grazie per il fatto Che anche in tutto Questo terribile pasticcio Che sta venendo a galla Tu riesci a darci Degli insegnamenti Meravigliosi E soprattutto assolutamente Pratici Che dovremmo poter riuscire A mettere in pratica Anche se non proprio facilissimi Perché una cosa È comprendere E condividere Ma mettere in pratica Non è poi così semplice Io ci provo ogni giorno Anche se non sempre Con successo Ma tra una caduta E l'altra Qualche passo in avanti Si fa Ora volevo chiederti Un consiglio In vista degli eventi Che stanno cambiando Tu ci hai consigliato Rifare un po' di riserve Per ogni evenienza E per non farci Cogliere impreparati Ora vorrei chiederti Cosa consigli di fare Con i piccoli risparmi Che attualmente Sono in banca Investiti in prodotti Non certo rischiosi Ma che con quello Che c'è in aria Potrebbero diventarlo Liquidizzare tutto Potrebbe essere una soluzione Però anche questo Può essere rischioso Vedi cosa sta succedendo In Grecia E poi se E quando l'ordine O meglio Il disordine Attuale Il sistema finanziario Sarà modificato Il liquido Che valore avrà Dimmi il tuo pensiero Su questo punto Per favore Io nonostante tutto Sono molto tranquilla Forse la saggezza Dell'età Mi aiuta Grazie di tutto Al prossimo incontro Grazie a te Neria Ovviamente un doppio abbraccio Perché ci conosciamo Da tanti anni Ho ricevuto tantissime domande Dello stesso tono Di quella che tu Mi stai facendo E a volte Sono stato tentato Di non rispondere A questo tipo di domande Perché non sono Specificamente competente Di questioni economiche A volte invece sono stato Tentato di invitare Un esperto A dire la sua Su questo argomento Non l'ho mai fatto Per un semplice motivo Perché so già esattamente Cosa ti direbbe So già esattamente Cosa ti consiglierebbe Chiunque oggi Chiunque oggi Cosa ti dovrebbe dire Disfatti degli euro Il più velocemente possibile E questo che potrebbe dirti Perché è solo una questione di tempo Fino al prossimo Bank run Come lo chiamano La corsa alle banche L'abbiamo visto succedere Proprio questa settimana Sia in Grecia E in Spagna Con miliardi Letteralmente ritirati dalle banche Contemporaneamente È ovvio che la gente Perde fiducia dalle banche Corre alla propria banca Ritira tutti i liquidi Per non rimanere Con un pugno di mosche E questo fa crollare la moneta E questo può anche accadere In sole 24 ore Molto 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 Velocemente E purtroppo Le contromisure Non sono così facili Innanzitutto Beh certamente Le banche Il fattore di rischio numero uno In questo momento È tenere i propri soldi In una banca Non importa il rischio Dello strumento particolare In cui stai investendo La banca è un fattore di rischio Fortissimo Leggevo su una newsletter Finanziaria americana Proprio ieri Di un Di un cliente Dell'autore Di questa newsletter Finanziaria Una persona Altissimo profilo È andata in Svizzera Per ritirare Il proprio oro Del proprio Conto segregato Cioè per legge Un conto segregato È un conto Che quell'oro Ci deve stare per forza Perché segregato Significa che il tuo conto Non si mescola Con i conti degli altri Sono i famosi Volts Forzieri Delle banche svizzere In cui ti danno Una tua cassetta fisica In cui il tuo oro È fisicamente separato Da quello degli altri Quale è stata La sua sorpresa Quale non è stata La sua sorpresa Nell'entrare in questa In questa banca svizzera Nei cavò Dove gli hanno detto Mi dispiace Il suo oro Qui noi non ce l'abbiamo Non so se mi spiego Diciamo Oggi come oggi La banca In quanto tale È il più alto Fattore di rischio Che io riesca A immaginare Purtroppo Ripeto Le contromisure Non sono così facili In questo momento La strategia Più avanzata Il che è tutto dire Perché non è Né tanto avanzata Né tanto sicura Però La strategia più avanzata Che io conosco E credo che ti consiglierebbero Un paio di esperti Che inviterei Che se li invitassi Ti consiglierebbero Esattamente questo Ti dovrebbero dire Di convertire La tua Futura carta straccia Cioè una banconota Chiamata euro Il più velocemente possibile È in oro Fisico E di non tenerlo In una banca Perché anche quello È un fattore di rischio Ma tenerlo sotto qualche mattone O sotterrato In qualche parte Oro Fisico Piccoli ringotti O piccole monete A più non posso C'è un sito Di un amico studente Che consiglio www.dashgold.com Italiano In italiano Che parla proprio di questo Parla come investire in oro Per tutelare le proprie Le proprie finanze Dashgold Si Lo spelling è D-E-S-H Gold D-E-S-H Dashgold.com Ti consiglio Di visitarlo Tutte le informazioni Che ti occorre Non ci guadagno niente Naturalmente in questa segnalazione Questo non è un link affiliato È una persona Il cui lavoro Stimo Per quanto riguarda L'investimento in oro fisico E poi Teoricamente La strategia più avanzata Sarebbe quella Che quando la moneta Crolla E purtroppo Non è più una questione Di se Ma è una questione Di quando Cioè quando la moneta crolla Acquistare terra Perché è una cosa certa La gente dovrà Comunque E sempre Mangiare E bere Quindi Anche quando le cose Precipiteranno Quindi terra Specialmente quella agricola Specialmente se ci sono sorgenti E a lunga prospettiva Sono i beni più sicuri O altrimenti anche immobili Ma quando la moneta Sarà crollata Non prima Quando la moneta Sarà crollata È come dicono I più spietati Fra gli investitori Quando il sangue Scorrerà per le strade Non lo dico io È la tipica espressione Degli investitori Quello è il momento Di disfarsi del proprio oro E di comprare immobili Case Perché da quel momento in poi Avranno raggiunto il minimo E potranno soltanto Crescere Vertiginosamente L'orro Per La cronaca È fermo da settembre Quindi ormai quasi da nove mesi Ormai inchiodato Intorno ai 1500 dollari Loncia Gli osservatori Prevedono che potrebbe raddoppiare Nel giro di qualche mese Adesso non voglio esagerare Ieri ho letto una proiezione Di una persona Che non si sbilancia mai A casaccio Parlava di 24 mesi Secondo lui Fra 24 mesi L'oro sta a 3000 dollari Ma attenzione Questo non significa L'oro raddoppia Non significa L'oro aumenta di dolore Di valore Significa che Le monete Perdono completamente Di valore E quindi nel cambio Chi ci guadagna È l'oro Quindi non si compra oro fisico Perché l'oro sta per diventare Più prezioso Ma si compra oro fisico Perché le monete Stanno per diventare Senza valore Tanto per intenderci Ora mi rendo conto Che quello che ho appena spiegato Non è assolutamente facile Non è assolutamente Per tutti Qualcuno Sta comprando Franchi svizzeri Qualcuno sta comprando Dollari australiani Ma alla fine Credo che questo problema Dobbiamo risolverlo Collettivamente Non c'è Modo Di risolvere Questo problema Con un Disordinato Si salvi chi può Non c'è modo Di risolverlo Lo possiamo risolvere Soltanto insieme Veramente Stringendoci intorno A Al valore Di aiutarci Gli uni Con gli altri E poi E poi E poi Anche E anche E anche E anche Quello di cui ci stiamo occupando Qui è arrivato il momento Di alzare la testa E vi è arrivato il momento Di dichiararci Cittadini della terra E non più di quella Finzione giuridica Chiamata Italia E decidere Quale denaro Vogliamo usare Fra noi Anziché il denaro Che è stato creato Da loro In nostro danno E qui non sto parlando Di fantascienza Questo è il modo In cui gli argentini Si sono tirati fuori Dal loro tracollo Di qualche anno fa Usando valute alternative Fra di loro Accordandosi fra loro Di usare valute alternative Ora qui L'unica domanda È questa Riusciremo a farlo prima O riusciremo a farlo dopo Il tracollo Questa è l'ultima domanda È l'unica domanda Tornando al discorso di Francesca Della sua testimonianza Sul terremoto Che faceva in apertura Di puntata Ci sarà bisogno Del terremoto Oppure riusciremo a capirlo Da soli E prima Questo è L'interrogativo E questo è uno dei motivi Per cui sto facendo Questo podcast Cercare di svegliarci Di alzare la testa Prima Che succedano cose Ancora più brutte Che minacciano di succedere Il Volevo leggere Un altro paio di domande Ce n'è una Di Antonio Ciao Italo Ti seguo da oltre un anno Ho avuto il piacere E l'onore di conoscerti Di persone a Milano In un corso di Max Formisano Spero che tu voglia Parlare pubblicamente Di questo commento Perché ovviamente Ciao Antonio Ricambio i saluti E mi ricordo benissimo di te Quindi un abbraccio Spero che tu voglia Parlare pubblicamente Di questo commento Perché seguo di aver Credo aver capito Una cosa molto importante Da trasmettere A tutti quelli Che seguono questo sito Innanzitutto Quando ti ho incontrato Mi ha subito colpito di te La tua semplicità Trasparenza Gioia interiore Da quando mi hanno segnalato Questa nuova iniziativa Episodio 1 Ho aspettato il giovedì Come fosse la domenica Ho il torcicollo Perché continuo a guardare In cielo le scie Eccetera 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 Qui sintetizzo un po' La tua lettera Che è un po' lunga Come dicevo Ho seguito un'attenzione Dal primo episodio Ho cercato di comunicarlo Con gli altri Amici Colleghi Eccetera Eccetera Ma non sempre Ha avuto successo Però ieri sera È accaduto qualcosa Di particolare Ero a casa Con la mia compagna Tre amici A cena Per una semplice pizza La tv trasmetteva Il solito TG Delle 20 Quando appare La faccia del ministro Monti Mario Io ostentivamente dico Ragazzi Ho intenzione Di denunciare Monti Napolitano Per attentato Alla Costituzione Qualcuno di voi È disposto a farlo con me? Dopo circa un minuto Di silenzio Non ho cominciato A farmi domande E così abbiamo passato Oltre tre ore A parlare di questi argomenti E ho fatto vedere Alcuni video YouTube Al riguardo Alla fine Gli ho segnalato Questo sito Rimandandoli Se volevano A ripetere questa esperienza Di una pizza E consapevolezza Incredibile vedere Cosa succede Quando porti le persone A essere consapevoli Su argomenti Che normalmente Non si discutono Leggi nel loro occhio La luce diversa Sicuramente non tutti Sono uguali Hanno la volontà Di diventare consapevoli Ma credo che valga La pena comunque provarci Da questa esperienza Penso che se Circa 3.000 persone Che scaricano E ascoltano Questi episodi Di tempo di cambiare Facessero a loro volta Una cosa simile In pochissimo tempo Saremmo in molti Che ne parlano E faremmo avvicinare Anche quelle persone Che non sanno Come informarsi Di argomenti Su cui spesso Si fanno domande Ma non trovano Le fonti Su cui può ragionare Grazie ancora a te Italo E a tutte le persone Consapevoli Che aggiungono E segnalano Nuove informazioni Grazie a te Antonio Apprezzo tantissimo Il tuo contributo E la tua testimonianza Se ogni ascoltatore Il problema Dell'attentato Per la paura È una scelta È una scelta Stavolta Stavolta però Non bisogna accusare Nessuno Dei disagi Che porta Perché ora Siamo più informati Di una volta Ma se minimamente Sentiamo che Il punto di svolta C'è Anche se non riusciamo A vederlo Però si sente Dentro di noi E anche nella gente Che vuole uscire Da questo vecchio Stantio dramma Allora Non lasciamoci Più manipolare Mai più Invece di cadere Nel panico Cerchiamo di capire Che succede Cerchiamo di darci Una mano Molti di noi Pensavano Di essere soli Credo che tanti Si stanno accorgendo Che non è così Un grande abbraccio Riccardo Ricambio il grande abbraccio A nome di tutti Gli ascoltatori Di Tempo di Cambiare Grazie per la tua Testimonianza Che ho apprezzato Tantissimo E credo che non ci sia Altro da aggiungere Talmente lo hai detto Bene Dobbiamo proseguire Dobbiamo darci una mano E questo è prioritario Inizierà sempre più Diventare prioritario Nella peggiore dell'ipotesi Anche se non riusciamo A cambiare il mondo Dobbiamo iniziare A darci una mano Sul serio E aiutarci Gli uni con gli altri In questo periodo Di profondo cambiamento Ora Per questo episodio Ho blaterato abbastanza Continuiamo nel prossimo episodio Nel prossimo episodio Continuiamo il discorso Su come È possibile Uscire Da questo Sistema Fraudolento Sia a livello individuale Se è possibile Sia a livello collettivo Di questo podcast Gli uni Con gli altri A migliorare Noi stessi È il mondo Per ciò che è possibile Sia a livello collettivo Sia a livello collettivo Grazie a tutti Grazie a tutti